terra una delle realtà che ha organizzato questo convegno. Anzitutto a nome dei promotori di questa iniziativa e di coloro che con noi l'hanno organizzata ringrazio tutti voi per la vostra presenza e di missionari comboniani che ci ospitano. Ringrazio anche tutti i volontari che stanno operando per renderla possibile. Permettetemi di ripartire dall'articolo undici della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la pace e riconosce la guerra come strumento di libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controverse internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la vittoria militare sulle altre nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali. Non vi siete trovati, vero, con questa lettura dell'articolo undici. Eppure questo è di fatto il nuovo articolo undici della Costituzione. Già dal 1991 con l'assunzione del nuovo modello di difesa imposto al Parlamento dai vertici militari in linea con il nuovo concetto strategico americano, il nostro Paese dichiarava il suo diritto ad intervenire in armi ovunque nel mondo se ritenessero fossero violati gli interessi nazionali e quelli dei paesi industrializzati. Nero su bianco ovviamente. Potremmo definire questa nuova postura una sorta di colpo di Stato poiché, come sapete, i primi dodici articoli della nostra Costituzione costituiscono i principi fondamentali su cui si fonda la democrazia italiana. Un'analisi puntuale di quanto affermato si trova nel libro Nuovo ordine militare internazionale, strategie e costi alternative, redato nel 92 dai Cassi Integrati Armati per la pace e il diritto al lavoro, un'azienda che sta qua, adesso si chiama Leonardo. In violazione anche dello Statuto delle Nazioni Unite, l'Italia ha conseguentemente partecipato alle guerre in Iraq, nell'ex Yugoslavia, in Afghanistan, in Libia, guerre che sono state presentate come missioni di pace. A questa partecipazione diretta alla guerra dei paesi industrializzati si aggiunge quella indiretta delle esportazioni belliche. È ciò che Papa Francesco denuncia con chiarezza e con una frequenza inusitata, la necessità di scardinare i perversi interessi economici dei signori della guerra e delle armi. La stessa natura della Nato è cambiata. D'alleanza difensiva è diventata strumento di aggressione proiettato ben al di là dell'area di sua pertenenza statutaria e ciò è tanto più pericoloso in quanto la Nato è lo strumento bellico più potente che la storia umana abbia creato e che solo per questo può essere percepita come destabilizzante. È questa natura che cercheremo di indagare nel nostro convegno di studio e nel dibattito tra i presenti e gli attivisti di realtà che ogni giorno lottano contro la guerra e tutti gli strumenti che la rendono possibile. Nel libro del 92, La strategia dell'impero, dalle direttive del Pentagono al nuovo modello di difesa, Raniero Lavalle anticipava questo fenomeno della liberazione della guerra dalle regole e dai limiti nei quali via via il diritto internazionale l'aveva confinata per essere eletta quale strumento sovrano del governo del mondo, totalmente disponibile all'esercizio, totalmente pervasiva della politica. E gli gridava alla necessità di fermarla, indicando questo compito come uno straordinario riscatto spirituale, istituzionale e politico quale nessuna generazione ha dovuto affrontare prima di noi. Fino ad ora, purtroppo, non ci siamo riusciti. Anzi, nonostante momenti alti di resistenza alla guerra, molti spezzoni del Movimento per la Pace sembrano ancora confusi, incapaci di leggere la cruda realtà e di trarne le dovute conseguenze. Bisogna ribaltare la visione e i concetti strategici ancora vigenti del nuovo modello di difesa, ripartendo dai concetti di sicurezza comune, di difesa non violenta, di disarmo anche unilaterale, di drastica riduzione della produzione e del commercio delle armi e di rilancio dell'impegno a salvaguardare le generazioni future dal fragello della guerra. Come recita lo statuto dell'ONU. Certo, per fare questo occorre avere coraggio, coraggio che vogliamo presente in questa assise. Ci siamo dati un compito arduo, anche perché la guerra in Ucraina, scatenata dall'invasione russa e prima ancora dalla repressione militare delle istanze autonomiste di alcune regioni dell'est Ucraino, ha rilegittimato la NATO quale alleanza difensiva insostituibile. Il complesso militare, scientifico, industriale e politico si consolida e cresce ogni giorno di più, infettando come un cancro tutti i gangli della vita sociale, pedagogica, universitaria e produttiva. Una realtà enorme che ha un peso supremo nel dettaglio della guerra e delle regole internazionali. La guerra è un crimine contro l'umanità, è la forma più barbara di regolazione dei conflitti. Le armi di ultima generazione e quelle termonucleari rendono la guerra una macelleria industriale. Una follia. Rendono il concetto della guerra giusta obsoleto, semmai sia stato accettabile. Riusciremo noi oggi, dopo trent'anni, dal nuovo modello di difesa a trovare la via per metterla al bando. Noi vogliamo che l'Italia esca da questa guerra, che sostiene invece con l'invio di armi e le sanzioni, utilizzando tutti gli strumenti diplomatici antitetici e quelli bellici. Vogliamo che questa guerra termini al più presto, ma vogliamo anche che si ponga fine a tutte le guerre nel mondo e per fare ciò dobbiamo metterci nei panni delle vittime e realizzare che anche noi stessi lo siamo. La Nato è la maggiore realtà che compromette la costruzione di relazioni non predatorie. La Nato va sciolta e dobbiamo identificare gli strumenti per farlo. Dobbiamo dunque interagire con movimenti di altre nazioni. La tua guerra intercapitalistica si avvicina ad essere totale e nucleare, mentre la situazione ambientale è sempre più critica. Ci rimane pochissimo tempo per agire. I scienziati atomici americani hanno portato le lancette dell'orologio dell'apocalisse a pochi secondi dalla mezzanotte. Dobbiamo agire ora affinché il movimento pacifista ed antimilitarista torni ad avere quella massa critica e a avere obiettivi essenziali senza i quali è impensabile raggiungere qualche risultato. Grazie. Buon lavoro. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Ugo Giannangeli, anch'io di Abbasso la guerra. Oggi abbiamo un nemico in più oltre quelli soliti quelli storici cui siamo abituati. Abbiamo il tempo contro di noi. Nel senso che, come avete avuto modo di vedere, il programma è estremamente denso. Ci sono ben otto relatori, ci sono previsti, speriamo di riuscire a farlo, rispettare il programma, spazi anche di dibattito già da oggi, mentre domani sarà in gran parte dedicato proprio a questo aspetto, al dibattito. Ho già dovuto ridurre le biografie di ognuno dei relatori, tra l'altro sono persone, professionisti estremamente noti, quindi non ci sarebbe stato forse neanche bisogno della presentazione e avrò, lo dico subito, soprattutto ai relatori qui presenti, lo sgradito compito, mi è stato assegnato a questo gravoso compito di far rispettare assolutamente la tempistica e quindi dovrò giungere anche a interrompere, se sarà necessario, spero di no, mi vogliate risparmiare questo compito, interrompere i relatori se superano quella mezz'oretta che è stata prevista per ciascuno di loro. E allora niente, proprio per non entrare in contraddizione con me stesso, direi che possiamo, siamo pronti tecnicamente con il primo relatore, Maglio Di Nucci. Maglio Di Nucci, vabbè, lo conoscete benissimo di sicuro, leggo proprio pochissime righe, è un giornalista e un geografo, collaboratore del canale TV nazionale BioBlu, con la rassegna stampa internazionale Pangea Grandangolo, ricercatore del Center for Research on Globalization Canada, premio internazionale di giornalismo per analisi geostrategica del Club dei Periodistas de Mexico, già direttore esecutivo per l'Italia della International Physicians for the Prevention of a Nuclear War, associazione internazionale premio Nobel per la pace millenovecentottantacinque. È stato tra i fondatori del comitato No Guerra Non Nato, ha lanciato con altri la campagna fuori l'Italia dalla guerra, poi ce ne parlerà Gin, Toschi, Marazzani domani, autore di numerosi libri di geografia umana, Zanichelli e Geopolitica, tra gli ultimi pubblicati, La guerra è in gioco la nostra vita, questo con BioBlu lo scorso anno nel 2022. Diamo quindi la parola a Maglio Di Nucci. Sì, grazie. Non so se mi vedete e mi sentite. Posso parlare? Sono inquadrato? Sì, sì, puoi parlare Maglio. Sì, aspettavo il vostro via. Sì, sì. Allora, dunque, scusa, dimmi il tempo, dato che giustamente hai richiamato sui tempi, dimmi. Il tempo previsto è mezz'ora, Maglio. Sì, va bene. Allora, ringrazio per l'invito. Mi scuso se intervengo da remoto, ma ci sono vari fattori, non solo l'anagrafe, ma gli impegni che mi impediscono di essere in tutti i luoghi dove vorrei essere. Comunque, siamo insieme non da ora, insomma, con Elio, siamo in collegamento, si può dire, quotidiano. Dunque, mi ha stimolato intanto un richiamo che è stato fatto dal precedente relatore quando ha parlato della strategia dell'impero e con la presentazione di Raniero Lavalle. Allora, si parla di questo, non so se lo vedete, testo che ha una storia che vi vorrei rapidamente ora riferire perché non è un fatto personale. Allora, siamo nel 1992, a un anno dalla Guerra del Golfo. Avevamo creato durante la Guerra del Golfo il Comitato Golfo, appunto, e ci eravamo collegati a Ramsey Clark, già attorney general nella missione Kennedy, che aveva fatto un documentario andando direttamente in Iraq sotto i bombardamenti per dimostrare che la guerra era tutt'altro che chirurgica. Invitammo poi il Ramsey Clark in Italia ed eravamo nel Comitato Golfo insieme a Ernesto Balducci. Anzi, ci riunivamo regolarmente con Balducci. Praticamente ogni settimana eravamo riuniti, avevamo varie iniziative. Dopo l'invito che avevamo fatto a Ramsey Clark, cioè a quella parte diciamo dell'America che si stava opponendo alla guerra, ricevemmo un invito ad andare a New York a un anno di distanza dalla guerra. E quindi andammo, una piccola delegazione, ero io con mia moglie Carla e poi Domenico Gallo, magistrato. Andammo a partecipare a questo convegno dell'altra America, che fu bellissimo, a New York. Conoscemo molti degli attivisti, soprattutto mi ricordo afroamericani e mi ricordo soprattutto afroamericane, c'erano degli avvocati, altri che mi dettero un'impressione estremamente positiva, di impegno e anche di chiarezza che avevano. Dopodiché andammo, la nostra piccola delegazione andò a Washington. Perché a Washington avevo già collegamenti con il Center for Defense Information. e aveva, in un precedente programma in Italia, aveva già avuto occasione di invitare a nostre iniziative, in questo caso erano supportate dal Comune di Prato, quando i comuni investivano, diciamo, in iniziative per la pace. Bene, invitammo esperti militari dell'allora Unione Sovietica e degli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti vennero alcuni, in particolare Jim Bush. Jim Bush era stato, fino alla fine degli anni 70, capitano di sottomarini da attacco nucleare, tanto per capire. Bene, in quell'ambiente mi ritrovai poi, frequentandoli, ad avere persone che non... diciamo, con cui cominciai ad avere rapporti molto costruttivi e amichevoli. Vi devo dire cosa che mai mi sarei aspettato, diciamo, assolutamente. E allora, ecco che quando andavamo con Gallo negli Stati Uniti, andavamo a Washington, presso appunto il Center for Defense Information, che era stato fondato dall'ammiraglio La Roche e altri ex-alti ufficiali, soprattutto della Marina statunitense. Ebbene, lì, ricordo che all'epoca non è che avevamo internet e cose varie, no? Quindi lì ci dettero i primi documenti ufficiali del riorientamento della strategia statunitense. Quindi rientrammo in Italia con questi documenti. Andammo da Balducci, che aveva già fondato le edizioni Cultura per la Pace. Ne parlammo con lui e stabilimmo di fare un libro a tre mani. Cioè, uno, Umberto Allegretti, che penso molti di voi conoscano, costituzionalista, ha svolto sempre un ruolo molto importante. Poi Domenico Gallo e io. Ebbene, Balducci disse, questo libro lo chiamiamo La strategia dell'impero. Questo è il titolo di Ernesto Balducci, La strategia dell'impero. Allora, ci lavorammo, mi ricordo, in una estate infuocata, vi ricordo? Riportando quindi i brani fondamentali di tutti questi documenti del riorientamento strategico e il primo documento che riorientava sulla scia di quella statunitense in Nato la strategia italiana, cioè il cosiddetto allora nuovo modello di difesa che trovate qui. Devo dire che il libro poi ha avuto anche un importante successivamente riconoscimento internazionale da una, mi ricordo, associazione internazionale di giuristi, niente meno. Quindi fu riconosciuto come un lavoro scientifico. Ebbene, allora, in questo libro c'è la presentazione, nella prefazione di Raniero Lavalle, che inizia con queste parole. Se state leggendo qualcosa, chiudete per ora questo libro e aprite questo e leggetevi questo, perché qui c'è scritto il nostro destino. Mi ricordo, Raniero, qui dentro questo libro ci sono queste parole, proprio le prime e le prime, ed erano, come dire, profetiche. Era scritto tutto qui. Una cosa impressionante. Qualcuno che l'ha letto dopo, questo testo, quindi in cui ci sono documenti integrali del Pentagono, della Casa Bianca, e poi mi ha detto, ma allora, già si sapeva cosa volevano fare. Ecco, questo per capire. Facciamo ora un salto nel tempo. Io penso che uno dei problemi che abbiamo, e che purtroppo è un fenomeno complesso, viviamo in una società che ci sommerge di informazioni, ci dà apparentemente modo di esprimerci in tutti i social, ma che poi ci toglie una facoltà fondamentale. Cioè, in che modo? Ci cancella la memoria, ci cancella la storia. In molti modi. Quando arrivano eventi ultimi, vengono evidenziati, se volete distorti, quanto siano, ma ci si concentra solo su quello che abbiamo sotto gli occhi. Ed ecco il fenomeno guerra, ecco l'Ucraina, eccetera. Solo su quello. E si dimentica, e si c'è al massimo, di cancellare tutto il retroterro, tutto quello che c'è dietro. E questo è praticamente quello che si può definire un nuovo tipo di ministero orvegliano della verità. Cioè, si cancella la storia. Ora, senza una visione della successione di eventi, per esempio relativi alla NATO e alle strategie, bene, è impossibile poter dare oggi un giudizio fondato su cosa sta accadendo oggi. E per farlo, ripeto, occorre la memoria storica essenziale. Ricordavo, appunto, il presentatore, nella scheda che ho scritto dei libri, l'ultimo che qualcuno ha definito giustamente il bignami della guerra, perché è una cosina agile che ho fatto guerra e in gioco la nostra vita. al momento in cui inizia l'intervento russo in Ucraina, ma ricostruisce appunto il bignami e ricostruisce dalla seconda guerra mondiale ad oggi. Cioè la nascita della NATO, poi successivamente quella del patto di Varsavia, la guerra fredda, la corsa agli armamenti nucleari, il periodo, quindi la dissoluzione del patto di Varsavia e della stessa Unione Sovietica, e poi naturalmente la successione delle guerre, del dopoguerra fredda, l'allargamento della NATO ad est. Ecco, praticamente davanti agli occhi ho cercato di mettere di chi voglia avere un quadro, chiamiamolo scientifico, reale, storico degli eventi, ho cercato di mettergli, come dire, non grandi approfondimenti, ma semplicemente delle note di fatti, reali, accertati, indipendentemente dalla interpretazione, poiché uno ne possa dare, senza di cui, ripeto, non si può ragionare dell'oggi. Ora, la storia è lunga, non basterebbe certo mezz'ora ad entrare nei dettagli, però vi posso dire intanto l'essenziale. Allora, il momento in cui, ecco qui, questo, il momento in cui si riorienta la strategia statunitense è il momento in cui crolla quello che Reagan, qualcuno si ricorderà, aveva definito l'impero del male per l'Unione Sovietica, ma prima si dissolve il patto di Varsavia, prima ancora c'è la rionificazione della Germania e quindi la Germania dell'Est che praticamente unendosi alla Repubblica Federale diventa parte della Nato. Ecco, in quel momento, in quel momento poi è venuto fuori con molta chiarezza di sgregazione del blocco, come dire, avversario degli Stati Uniti, e c'è qui chiarissimo enunciato, chiarissimo enunciato, hanno una visione molto, molto chiara, molto nera e a differenza di molti tramuffamenti che vengono, non so, nella politica italiana, devo dire che un pregio questi strateghi del Pentagono o della Casa Bianca, un pregio ce l'hanno che quando parlano, parlano molto chiaramente. Diciamo, lo dicono tranquilli, tranquilli, perché per loro è normale. Allora, cosa dicono in questi documenti, questi documenti che trovate nella strategia dell'impero, giustamente così definita, ripeto, da Ernesto Barberto? Trovate questo concetto fondamentale. A questo punto usciamo vincitori da un confronto storico, quello con l'Unione Sovietica, il suo blocco di alleanze. Allora, da ora in poi, cosa dovremmo fare? Dovremmo fare in modo di impedire che un paese o un blocco di paesi riesca a costituire un qualcosa che possa mettere in pericolo la lancia ormai chiara leadership globale. Questo è il concetto chiarissimo. E questo pericolo del formarsi di stati o blocchi di stati in grado, come dire, di controbilanciare il dominio statunitense è previsto che possa verificarsi in più regioni. E lo sapete, la prima regione che nominano, qual è? È l'Europa. Cioè, bisogna impedire che un processo, in poche parole, di unità europea porti a qualcosa che ci ponga un'entità e una unione in questo caso. Ancora non si parlava, insomma, una unione, ma era in fiere l'unità europea, quindi, che si renda, come dire, indipendente da noi. Ed ecco il rilancio, il rilancio del ruolo della Nato. Ed ecco chiarissimo, in questi documenti, ripeto, ufficiali, non racconto cose per sentito dire, in questi documenti ufficiali c'è che cosa, il concetto che è in pericolo la Nato. Attenzione, perché ora non c'è più il nemico. Allora, se non c'è più il nemico, può essere che gli alleati europei ritengano superata questa alleanza. Quindi, bisogna fare in modo di riorientare la strategia, la strategia dell'anato. Scusate, devo fare un blocco, una cosa tecnica, perché avevo messo un timer, ma non funziona. Mi dici, per favore, quanto è, perché mi ero... Hai 14 minuti. Ecco, esatto, perché mi ha ingannato il timer che non funziona. Allora, va bene. Allora, questo era chiarissimo già loro. E in questo senso si sono mossi gli Stati Uniti d'America, ma quando intendo Stati Uniti d'America intendo qualcosa di più di quello che comunemente si intende. Non intendo quell'amministrazione oppure quel presidente o altro. Intendo quel blocco di interessi che nelle cupole vere del potere determinano poi le scelte fondamentali e che sono al di sopra della stessa casa viale. Ed ecco che rapidamente che cosa si vede? Che nel momento in cui entra in crisi e si disgrega il blocco avversario gli Stati Uniti spostano diciamo l'asse strategico nella regione del Golfo ed ecco la prima guerra del Golfo con un ex alleato attirato in una vera e propria trappola diciamo facendogli credere di avere luce verde all'invasione del Tueit eccetera eccetera e si inizia si inizia di lì un passaggio poi fondamentale è quello della guerra alla Jugoslavia di cui Gin Toschi Marazzani Visconti ha un'esperienza diretta lei è andata dentro nella guerra cosiddetta civile in Bosnia e ha seguito tutto quindi ne parlerà a lei io ne parlo su un altro profilo è una perché deve essere demolita la federazione Jugoslava perché evidentemente il piano era quello già enunciato la Nato doveva espandersi ad este nonostante che Gorbachev lo sapete ormai tutti lo sanno ma ripetiamo avesse ricevuto garanzie ufficiali che la Nato non si allargerà di un solo pollice ad este e in mezzo c'era una federazione Jugoslava che era tutt'altro che antioccidentale questo è chiaro che però era un paese non allineato si demolisce semplicemente e fu demolita e fu demolita ma non fu solo questo perché proprio mentre era in corso la guerra all'Eugoslavia viene convocato a Washington il summit della Nato che introduce il concetto del non articolo cinto cioè la la Nato non si muove solo più nel per difendere uno dei suoi membri che venisse attaccato per l'articolo 5 ma si muove in tutti gli altri casi ecco il non articolo 5 attenti che non articolo 5 non è un modo di dire è codificato nei documenti della della Nato e di fatto e di fatto incomincia la Nato a inglobare i primi tre paesi del patto di Varsavia in proprio e da allora dalla guerra che ha demolito la federazione goslava e a la diciamo e alla vigilia ora del precipitare della situazione con l'Ucraina la Nato si allarga da 16 a 30 paesi compresi le repubbliche baltiche cioè un tempo appartenenti all'Unione Sovietica continuamente da parte russa ci sono avvertimenti gli avvertimenti non vengono tanto negli anni 90 questo sia chiaro perché negli anni 90 praticamente la crisi è in Russia tale che sono in uno stato di completo sbandamento sono praticamente colonizzati sono sono praticamente le mafie che hanno presso il potere di oligarchi d'assalto e quant'altro in una situazione drammatica in quel caso gli Stati Uniti e la Nato ne approfittano e come anche in Ucraina per penetrare non solo lì ma anche in tutti i paesi un tempo facendo parte del patto di Valzano e si arriva poi a che cosa quando si forma un fronte nazionale interno con Putin diciamo emblematico ma un fronte che abbraccia un vastissimo arco di società di realtà diciamo sociali culturali ideologiche russe che vanno diciamo dai comunisti alla chiesa ortodossa e a quant'altro situazione estremamente complessa ma in sostanza che vede ricrearsi di qualcosa che ricostituisce dentro uno Stato allora è proprio da quel momento intendo in quel momento in cui la politica occidentale era molto aperta se vi ricordate G7 accolse la federazione russa e diventò G8 io allora definivo sempre questo blocco i G7 più uno perché la Russia non era in effetti un G7 ma era stata come dire inclusa nel salotto buono per ragioni politiche e lì c'era anche Putin che non solo ma poi ci fu degli accordi degli avvicinamenti con la Nato eccetera però contemporaneamente poi cominciò a crescere la pressione l'avanzata verso la Russia cioè ogni ogni paese che entrava e ci sono tutte le fasi io tra l'altro lavoro spesso anche in grand'angolo faccio vedere un'animazione diciamo sull'allargamento della della Nato a destra insomma io penso in questo contesto in cui parliamo la sappiate benissimo e però va ricordato e quindi ogni passo avanti che fa la Nato è qualcosa che evidentemente viene recepito come una minaccia e come poteva non so il governo russo pensare che si allargava questa alleanza ma questa alleanza comportava e comporta lo schieramento di sistemi d'arma sempre più avanzati e compresi quelli nucleari se non diretti ma comunque le strutture di base per poter poi dispiegare armi nucleari nell'est che non fosse una minaccia alla Russia ora tutto andava in questo senso riguardo all'Ucraina fino al 2000 se voi consultate articoli documenti eccetera voi vedete che fino al 2013 grosso modo c'è una situazione interna molto complessa di dire che c'era corruzione immaginiamo poi guardiamoci in casa nostra ma non è solo questo c'era un'alternanza un tira in molla ma comunque anche per la complessa storia dell'Ucraina che ora non possiamo certo aprire delle sue componenti eccetera fatto sta che siamo nella fase nella fase in cui sarebbe bastato aspettare le prossime elezioni presidenziali per poter avere un'ulteriore capacità in questo caso della Nato degli Stati Uniti dell'Unione Europea di inglobare l'Ucraina diciamo a tutti gli effetti nella loro area di influenza e di dominio ma perché allora avviene quello che avviene in piazza Maidan in piazza Maidan dove ci sono scontri scontri tra fautori dell'entrata nell'Unione Europea e oppositori ma scontri dove c'erano forze di polizia d'accordo ma un conto è uno scontro fisico un conto sono le manganellate o che ne so qualcuno che tira anche una molotov è un conto quando i ratori scelti appaiono sul tetto di un albergo e cominciano a sparare in maniera sistematica contro dimostranti contro poliziotti e gruppi di assalto nazisti di cui abbiamo le prove già formati soprattutto in Lettonia e altri paesi in campi di addestramento nato alla guerriglia urbana attaccano i palazzi governativi costringono il presidente Yanukovic a fuggire prendono il potere esibiscono insegne come quelle del battaglione Azov la SS Das Reich cioè dichiara marca nazista e immediatamente cosa fanno? attaccano le popolazioni russe del Donbass perché? cosa avevano fatto? Erano popolazioni che solo rivendicavano diritti delle minoranze nazionali che mai avevano avuto la reazione dei russi della Crimea che un tempo apparteneva alla Russia ed era stata come dire in epoca sovietica regalata all'Ucraina da Khrushchev è immediato un referendum è un referendum regolare c'erano anche osservatori internazionali si distacca si distacca la Crimea a questo punto chiede di entrare nella federazione la federazione accetta ed ecco che scatta scatta e secondo me è un piano che era già preparato scatta scatta cosa l'accusa le sanzioni la Russia ha aggredito l'Ucraina la Russia si è impadronita addirittura di un pezzo del territorio sovrano dello Stato ucraino a questo punto inizia l'attacco a Donbass allora dal 14 dal 14 fino fino al 22 insomma fino a che poi non c'è stata la reazione russa c'è uno stilicidio un attacco continuo ci sono documentazioni ma allora non faceva notizia c'era molta distrazione ma anche tra i chi combatte contro la guerra per la pace c'era molta distrazione non si capiva la tensione che si stava creando il piano ed ecco che si arriva poi al precipitare della situazione in dicembre dicembre del 2021 la federazione russa propone agli Stati Uniti un tavolo negoziale per risolvere tutte le questioni gli viene sbattuta la porta in faccia letteralmente avventano che c'è una linea rossa che non si può superare c'è una situazione ripeto complessa interna ogni paese non è un blocco monolidico quando si dice Stati Uniti Cina Russia chiamate però semplificando avvertono avvertono affinché inizia la che cosa quella che io ho chiamato reazione e su questo ho rotto col manifesto perché il manifesto mi voleva imporre che a quel punto dicessi c'è stata l'aggressione della Russia all'Ucraina ebbene io in quell'articolo che fu praticamente tolto dal giornale quando il giornale era in rotativa ed era già online una cosa vergognosa di vigliaccheria politica diciamo vigliaccheria politica il io volevo un divattito il l'episodio era questo che nel 19 la rent corporation elabora un piano che poi è stato quello cioè qual è il punto debole della Russia esporta energia quindi tronchiamo i gas dotti questo è chiaro poi qual è il punto l'altro punto debole l'Ucraina attacchiamo attraverso l'Ucraina eccetera tutto detto quando io poi al momento dell'intervento russo ricordo questo e dico che poi la Russia ha reagito mi ci vuole incorre che dica no la Russia ha aggredito no perché allora avrei negato addirittura tutto quello che avevo documentato non con la mia mente con fatti reali in decenni almeno vent'anni di lavoro col manifesto soprattutto nella rubrica l'arte della guerra un editore Zambon ha pubblicato un volume che ha raccolto un'antologia questi articoli sono diventati addirittura 500 pagine io avrei dovuto a questo punto dimenticare cancellare anch'io come fa il ministero della verità tutto quello che era precedente e dire la Russia a questo punto ha freddo ha aggredito la Russia ha aggredito no la Russia non ha aggredito è scattato un piano e ora ormai il tempo mi pare scade e questo piano l'ho scritto cerco di documentarlo attenti non è solo quello che si può pensare va molto al di là dell'Ucraina a questo punto il piano era pronto la Russia di fronte alla Nato non solo ma c'è un'Unione Europea che si è allineata in un modo in un modo che devo dire pochi aspettavano sinceramente si aspettava qualcosa che perlomeno l'Unione Europea mantenesse una sua minima identità guardate la Germania con la Merkel aveva una sua politica criticabile eccetera ma ora addirittura devo dire la dobbiamo rimpiangere perché gli stanno fornendo i carri armati Leopard eccetera hanno accettato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream come fosse un cosa scusami scusami ma purtroppo in pratica devo interrompere mi piace si ti devo fammi finire una frase figurati no no mi rendo conto sto chiudendo quindi io interpreto tutto questo non semplicemente nella guerra di Ucraina quindi uno non è la Russia che ha aggredito e secondo me aprire articoli o pronunciamenti sempre perché dobbiamo essere come dire politicamente corretti grazie perché l'Occidente si sta riunendo in questa guerra che è una guerra che ci porta alla guerra mondiale se prosegui così perché ci sono di mezzo le armi nucleari arrivate ora anche in Italia per le nuove del 61-12 bene questo lo sapete tutti il non posso dire che la Russia ha aggredito la Russia non ha aggredito avrà reagito male però siamo in una situazione non ho detto e viva la Russia è intervenuta tutt'altro siamo in una situazione di una pericolosità incredibile estrema quale forse mai si è avuta più o meno dalla seconda guerra mondiale ad oggi più pericolosa della guerra francese e contemporaneamente c'è una strategia che sta frammentando l'Europa sta frammentando l'Europa ci fanno a pezzi non abbiamo più una sovranità modo di guidare di guidare diciamo scelte che possano possano diciamo essere determinati per il nostro futuro mi fermo qui perché ci sarebbero capite moltissime moltissime altre cose da dire ma comunque questo è quello che penso vorrei che si tenesse a mente in questo dibattito vi ringrazio vi ringrazio di nuovo e ora ho un'altra tra breve anche un altro incontro sempre telematico per cui vi devo lasciare di nuovo buon lavoro ringraziamo noi e vedrò poi il proseguo del del vostro incontro perfetto va bene ciao ringraziamo noi Maglio Di Nucci e non ho avuto il coraggio di interromperlo su quella quello che è stato il suo ricordo di quella vergognosa censura da parte del manifesto dopo 20 anni di collaborazione è stato un episodio come dai l'apriso sì beh finisco su un maglio un attimo io ho trovato tutto come sempre interessante ma in particolare questo richiamo alla necessità di contestualizzare il presente come il presente in realtà è stato già scritto nel passato e quindi l'importanza della memoria storica questo è l'elemento fondamentale su cui dobbiamo riflettere mi diceva Filippo che c'è un annuncio da fare sì ci sono 15 persone in piedi là in fondo ma ci sono diversi posti liberi qui davanti per cui vi preghiamo di venire a accomodarvi grazie perfetto allora possiamo proseguire il prossimo relatore è stato già citato è la prossima relatrice è stato già citata da Maglio Di Nucci è una cara comune amica Gin Toschi Marazzani il suo compito beh bel prosieguo dell'attività della della relazione no penso Di Maglio le campagne militari di Nato ed USA dal millenovecentonovantuno ad oggi due righe ti ho tolto la parte giovanile Gin ho tolto alcuni trascorsi giovanili di Gin Toschi e allora ricordo solo questo che ha collaborato con il quotidiano manifesto con la rivista geopolitica Limes Avvenimenti Mites Balkan Infos tra le sue pubblicazioni viaggio nella follia di una guerra la porta d'ingresso dell'Islam e soprattutto il corridoio nel milenovecentonovantadue contribuisce a organizzare il viaggio in Jugoslavia e Bosnia e Herzegovina per il premio Nobel per la pace Elie Wiesel e in seguito percorre diverse volte i fronti di guerra dalla Croazia a Sarajevo dalla Craina a Montenegro a Kosovo è a Belgrado è presente fisicamente durante i bombardamenti conosce molti personaggi chiave della politica balcanica ed è testimone di avvenimenti e fatti è una portavoce della campagna fuori l'Italia dalla guerra di cui in specifico ci parlerai domani esatto a lei la parola buongiorno allora io sono incaricata di parlarvi delle campagne militari statunite in sinato dal 1921 91 ad oggi allora prima di affrontare il racconto delle campagne militari che hanno infestato gli ultimi trent'anni delle nostre vite è necessario ricordare dei fatti che secondo me sono all'origine di queste guerre fra poco fra l'altro uscirà un libro di Germana Leoni che vi consiglio di leggere che si chiama Il quarto Reich leggetelo perché è molto interessante allora arriviamo al 1900 cominciamo dal 1944 quando 74 gerarchi nazisti consci che la Germania era alla fine decidono di salvare l'ideale nazista dalla catastrofe e fondano l'organizzazione ODSSA il loro intento è di emigrare e ovunque si stabilissero far impegnarsi in società amministrazioni stati ovunque potessero far filtrare l'ideale nazista bene gli Stati Uniti chiaramente hanno assunto molti di questi gerarchi per la loro conoscenza dell'Unione Sovietica e li hanno inseriti nei servizi e quindi nelle amministrazioni americane e la loro visione ha indubbiamente influenzato trasversalmente la politica statunitense ora siamo nel 1977 anzi io vi pregherei di pensare al tempo al calendario come a una scacchiera dove le date sono pedine pedine che si muovono per dare scaccomatto alla Russia è tutto pensato in quest'ordine e poi eventualmente passare alla Cina ok 1977 un gruppo questo gruppo di intellettuali liberal i futuri neoconservatori neocons fra i quali personaggi che avrebbero poi fatto parte del governo di Bush figlio tipo Paul Wolfowitz Dick Cheney Donald Rumsfeld e Jeff Bush il fratello tra l'altro concepiscono un progetto che condivide molti tratti ideologici con ETSA vi leggo quello due punti che forse vi chiariscono la cosa la storia del ventesimo secolo avrebbe dovuto insegnarci che è importante plasmare le circostanze prima che le crisi emergano e affrontare le minacce prima che diventino tragiche la storia di questo secolo avrebbe dovuto insegnarci ad abbracciare la causa di una leadership americana stabilire una presenza strategica militare in tutto il mondo attraverso una rivoluzione tecnologica in ambito militare scoraggiare l'emergere di qualsiasi superpotenza competitiva lanciare attacchi preventivi contro qualsiasi potere che minacci gli interessi americani queste sono le linee guido del PINAC project for a new american century progetto per un nuovo secolo americano ovviamente molti di questi personaggi poi faranno parte del complesso industriale militare che dalla fine della presidenza Eisenhower aveva preso un tale potere da comandare anche i presidenti americani l'ultima data chiave è l'otto dicembre 1997 quando Ronald Reagan presidente statunitense e il presidente del 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 soviet Mikhail Gorbache firmano il trattato INF Intermediate Range Nuclear Forces Treaty trattato delle forze nucleari a medio raggio si apre un momento molto importante perché finisce la guerra fredda e credo che tutto il mondo ha respirato non c'era più la paura della guerra nucleare si aprivano le frontiere cadeva la cortina di ferro insomma sembrava una meraviglia che fossimo tornati a una normalità che faceva sperare per il meglio il mondo tira un sospiro di sollievo ma è solo una lunga pausa illusoria cioè questa è anche una tecnica la tecnica di far sperare per il meglio poi dar l'ammazzata in questo tempo è stata molto lunga ma io l'ho vista applicata nei Balcani e in altre guerre dove usano lo stesso sistema per sei anni un anno cioè sei anni quattro anni tre anni un anno sei mesi ed è quello che serve a sfiancare la gente perché quando la gente sente che si può arrivare finalmente alla pace alla normalità arriva l'ammazzata in seguito gli Stati Uniti si trovano ad essere alla sola potenza mondiale quindi cercano di sfruttare l'occasione al meglio e di prendere il potere al massimo e noi lo vediamo in questi tempi tra l'altro il 5 novembre 1990 il congresso americano approva la legge 101 513 sugli stanziamenti per le operazioni estere in cui si parlava anche dell'Iraq che non era ancora stato colpito ma allo stesso tempo una sezione della legge prevede il taglio entro sei mesi di qualsiasi aiuto credito prestito dagli Stati Uniti alla Jugoslavia inoltre si impongono elezioni libere e separate in ciascuna delle sei repubbliche ricordiamoci che quella era una federazione per cui se si volevano staccare sarebbe stato necessario un referendum totale cioè federale invece questo non si è voluto perché c'erano molti che si sentivano jugoslavi e chiaramente sotto c'era tutta una 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 tecnica che è stata applicata che vi spiegherò fra poco per cui si è preferito far fare le elezioni singolarmente con un risultato poi che chiaramente il sostegno economico avrebbe potuto essere reintrodotto ma solo a quelle repubbliche che avevano dato prova di democrazia fra virgolette e appunto e prestiti sarebbero stati concessi ai partiti nazionalisti il 26 dicembre 1991 lo sappiamo tutti si scioglie l'Unione Sovietica e anche il patto di Varsavia però a questo punto il patto atlantico un mese prima della scioglimento di queste due entità a Roma viene trasformato il suo statuto viene trasformato la Nato non è più una forza difensiva ma offensiva secondo il progetto del secolo americano nel corso del 91 gli Stati Uniti attaccano in forza l'Iraq con 35 paesi in supporto alcuni membri della Nato altri no la guerra si ferma prima di arrivare a Bagdad viene usato per la prima volta l'uranio impoverito che useranno di nuovo nei Balcani ed io sa cosa fanno in Ucraina perché io vi posso dire che nel dieci anni dopo pochi mesi prima che ci fosse il secondo attacco io ero in Iraq e sono stata all'ospedale di Bassora all'ospedale di Bassora ho visto quello che può fare l'uranio impoverito sulle persone che vivono in un'area vicina ma anche lontana perché ricordatevi che l'uranio impoverito quando esplode diventa una produce un colore un calore pazzesco poi si si spezzetta in cellule volatili che si infilano nel terreno ma vanno col vento per cui il vento non conosce frontiera vada per tutta è andata sia in Iraq che in Kuwait beh io ho visto il risultato all'ospedale ho visto i bambini nati da persone che erano state sfiorate dall'uranio impoverito e vi giuro che quando li ho visti io ho pensato che gli esseri umani devono devono finire che il comando del mondo deve andare alle formiche ai delfini agli elettanti a chiunque perché concepire una mostruosità simile è incredibile ma questa era una mia cosa personale comunque la guerra finisce in qualche modo e diventa lo stato quo lo stato quo per dieci anni con sanzioni gravissime quindi sono dieci anni in attesa sembra quasi che forse si possa sopravvivere però ci sono le sanzioni la gente veramente e sono sanzioni molto dure e non ce la fa vivere però ed è una 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 l'Iraq era un paese ricchissimo vi vorrei ricordare che ci voleva nell'89 un dollaro e 320 per fare un dinoro iracheno questo per dirvi adesso un milione per un dollaro voglio dire sono delle cose mostruose bene nel corso del 1990 ovviamente inizia le operazioni per la disgregazione della Jugoslavia e per quello che ho potuto considerare io la guerra in Jugoslavia è stata fondante perché hanno creato un protocollo di cui vi leggo le direttive stati e governi indipendenti e recalcitranti alle direttive statunitensi sono perseguibili e vanno piegati fanno organizzate primaverie colorate per creare rivolte fra i civili dure sanzioni alla nazione nel mirino la demonizzazione dell'antagonista è stabilito attraverso i media con pesanti campagne denigratorie in particolare centrate sul leader qualcosa vi ricorda vero? partiti di estrema destra e personaggi di tendenze naziste o estremisti vengono contattati perché influenzino o prendono il controllo dei governi anche questo mi ricorda qualcosa gruppi estremisti ricevono armi e insegnamenti vengono inviati agenti della CIA forniti molto contante per convincere politici giornalisti o personaggi di spicco perché sostengono la narrativa imposta impiego di sanguinose messe in scena per incolpare l'antagonista e giustificare l'intervento della Nato impiego di agenzie occidentali mercenari e gruppi di estremisti nazisti o jihadisti sabotaggio di qualsiasi tentativo di dialogo tra le parti durante il conflitto fino a che non si è arrivati a quel punto per cui lo scopo degli Stati Uniti è quello di probabilmente consumare delle armi per guadagnare alle fabbriche e naturalmente anche alle agenzie di mercenari perché in quel punto in Jugoslavia sempre di più si è passati ai mercenari di Stato allora come da protocollo nel 1990 gli agenti dei servizi iniziano a contattare i gruppi estremisti musulmani in Bosnia ricordiamoci che Alia Ezebegovic faceva parte del gruppo Hansar durante la seconda guerra mondiale che era il gruppo arabo nazista e Franjo Tuchman il croato era in fondo un ustasha non so se voi sapete cosa sono gli ustasha non ve lo sto a spiegare quindi questi hanno avuto finanziamenti hanno avuto protezione e chiaramente poi è iniziata la campagna contro i serbi che tutti voi conosciuti conoscete bene allora quando ci sono state le elezioni in pratica sia la Slovenia che la Croazia hanno dichiarato l'indipendenza l'indipendenza è stata riconosciuta dalla Germania nel Natale del 91 dal Vaticano il 15 gennaio del 92 e in seguito quasi tutti i paesi europei cos'è successo che in Bosnia la cosa non poteva andare perché c'era stata l'elezione cioè sono andati al voto però mancava il 35% della popolazione perché croati e musulmani hanno votato gli serbi si sono astenuti perché sapevano che avrebbero perduto rispetto alla quantità musulmana e quindi si sono ritirati e praticamente questo con con gli aiuti che sono stati dati ai gruppi più estremi ha creato una guerra civile che è scoppiata nell'aprile del 92 la guerra avrebbe potuto firmarsi nell'agosto perché a Lisbona José Cotillero aveva organizzato un incontro e aveva proposto un piano per cui sia Karadzic che Tuchman che Isebegovic avevano dato il loro consenso ma a un certo punto Alia Isebegovic viene richiamato d'urgenza Sarajevo incontra l'ambasciatore statunitense Warren e chiaramente invia il suo rifiuto quindi questa è un'altra delle cose che fanno si impedisce di fare la pace perché il progetto non è finito si intende farla andare avanti perché ci sono degli scopi precisi un documento congressuale fra l'altro del 1997 prodotto dal Comitato del Partito Repubblicano rivela che l'amministrazione statunitense con il suggerimento del National Security Council di Clinton diretto da Anthony Lake che era anche il capo della CIA ha aiutato a trasformare la Bosnia in una base islamica militante portando al reclutamento di migliaia di Burjahadine dal mondo islamico questa politica è stata approvata dal presidente Clinton nell'aprile 1994 su pressione del direttore della CIA Anthony Lake e dell'ambasciatore Peter Galbraith e secondo i documenti del Los Angeles Times è stata anche replicata in Kosovo cosa ha fatto Clinton ha dato l'autorizzazione guardate la cosa curiosa ha dato l'autorizzazione all'Iran di mandare non solo armi e beni di supporto ma anche di infiltrare i suoi servizi segreti e questo ha causato che la politica di Ali Ezeb che è il capo dei musulmani fosse sempre più crudele e determinata tant'è vero che in quel periodo ci sono state delle messe in scene crudelissime fra cui la bomba alla fila del pane la gente che aspettava il pane a Sarajevo questo nel 92 e più tardi le bombe al mercato di Marcalé nel 94 e 95 fra l'altro io avevo appena finito di intervistare Karadzic quando è arrivata la notizia e Karadzic era sconvolto perché sono stati accusati immediatamente i serbi e hanno rifiutato di fare una commissione di inchiesta è stato deciso che erano i serbi e la Nato ha bombardato tutto il territorio della Repubblica Serbsca di Bosnia questo è quello che si fa da vita insomma la legalità non esiste non esiste nessun senso di giustizia questo l'abbiamo già capito la guerra sarebbe durata altri tre anni dopo quell'epoca c'è stato l'accordo di Dayton l'accordo di Dayton è stato fatto da avvocati americani risultato adesso gli occidentali cercano disperatamente di disfare l'accordo di Dayton ma si trovano l'opposizione curiosamente di croati e serbi insieme ed è una cosa abbastanza curiosa ma quello come vedrete è anche perché attualmente cercano di salvare il Turk Stream Turk Stream che è l'ultima pipeline rimasta ma come si dice pipeline in italiano conduttura oleodotto grazie oleodotto rimasto che dalla Russia porta attraverso la Serbia attraverso la Bosnia salendo su verso l'Ungheria e l'Austria dove anche la Croazia ne usa ecco perché forse fa amicizia con i serbi cercano di salvarlo perché anche quello è in pericolo cioè c'è una determinazione da parte gli statunitensi di non stupiamoci se tra un po' salta questo è chiaro la Repubblica questa voi sapete che poi dunque è tutto finito vi voglio far notare una cosa esisteva anche la Repubblica serbsca di Kraina perché le Kraine erano Kraina fra l'altro curiosamente vuol dire confine frontiera esattamente come l'Ucraina queste tre regioni erano ai piedi della Croazia e facevano parte della Croazia ma quando nel 1990 data l'indipendenza la Croazia fa una nuova costituzione per cui dice la Croazia è dei croati tutti quelli che erano di etnia diversa perdevano ogni diritto quindi a quel punto le tre unità serbe ai piedi della Croazia come il Donbass chiedono la loro indipendenza e praticamente creano la Repubblica serbsca di Kraina bene nel 95 l'esercito croato entra nelle Kraine appoggiato dal MPRI che era un ramo della holding di e-communications che è un'immensa holding che è quotata alla borsa di New York è un'agenzia fondata da sette generali che possono mettere in moto diecimila uomini nel tempo di tre giorni e a questo punto le Kraine vengono ripulite completamente 500 mila persone sono dovute fuggire e non esistono più adesso sono croate vi faccio presente anche che la Croazia come l'Ucraina ha sempre avuto delle aspirazioni nazifasciste e curiosamente come l'Ucraina ha avuto dei vantaggi che per esempio i musulmani di Bosnia sebbene protetti non hanno avuto e i serbi certamente no per cui quella che ha avuto tutto quello che ha desiderato è stata la Croazia questa è una cosa giusto così allora il progetto è sempre più evidente si cerca passo per passo di togliere qualsiasi come posso dire luogo amico o sponda alla Russia anche se James Baker che era il segretario di Stato con Bush padre promette che la Nato non avrebbe fatto il secondo passo avanti e voi sapete adesso ve l'ha raccontato Mario dove è praticamente dopo quattro anni di tranquillità finalmente gli Stati Uniti decidono che a questo punto vogliono anche la Serbia quindi nel 1999 il Pentagono decide di attaccare e cosa fa? a un certo punto crea in Kosovo la ragione e c'è la fossa di Ratchak che il Figaro francese dirà non è così non è però viene passato come un necidio di cittadini albanesi cosa succede? I coorganizzano Rambouillet a Parigi dove si incontrano le parti in realtà le parti non si troveranno mai a discutere niente faccia a faccia ma all'ultimo viene considerato viene dato un dossier che praticamente corrispondeva all'occupazione della Jugoslavia fatta da Serbia e Montenegro composta da Serbia e Montenegro chiaramente i serbi hanno rifiutato il 24 marzo 1999 sono iniziati i bombardamenti durati 75 giorni e la cosa si è finita perché siccome i serbi resistevano si doveva arrivare alla guerra con la fanteria praticamente la guerra di terra non più la guerra aerea che dall'alto si bombarda e bisognava mettere di mezzo la gente gli uomini e questo gli americani non volevano perché c'era c'era praticamente la regola del zero zero morti e quindi sono subentrati i russi i russi a fare da paceeri in pratica tant'è vero che a un certo momento il consiglio dell'ONU ha emesso la decisione 1244 in cui riconosceva che il Kosovo era una regione serba e che i serbi avrebbero avuto il diritto di controllare le frontiere ai luoghi sacri perché voi forse saprete senz'altro che il Kosovo era un'antica regione serba ma soprattutto culla dei più grossi monumenti religiosi fra l'altro che risalgono dal XII secolo sono dei posti stupendi che probabilmente verranno anche distrutti perché 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 c'è una follia lì è totalmente beh a questo punto a questo punto finisce la guerra il Kosovo rimane nelle mani della della Nato e chiaramente degli occidentali con Bernard Kushner che dovrebbe occuparsi delle cose e lì succedono cose terribili perché praticamente i non albanesi vengono perseguitati ammazzati e praticamente cacciati ai pochi serbi che rimangono sono inghettati in villaggi dove per andare all'ospedale devono addirittura chiamare il K-4 per accompagnarli se no rischiano la vita ed è una situazione sempre accesa rimasta volontariamente accesa anche se il Kosovo adesso è indipendente perché è una una ragione per poter avere la scusa per riattaccare allora nell'ottobre del 2000 a questo punto la Serbia subisce una rivoluzione colorata che abbatterà decisamente il governo di Milosevic tra l'altro una curiosità chi l'ha organizzata è un gruppo che si chiama Otpor io ho cercato di intervistare un gruppo di studenti erano misteriosissimi non si potevano contattare questi sono diventati adesso i professionisti delle rivoluzioni rosa si chiama il gruppo adesso Canvas e praticamente vengono mandati in giro a organizzare queste cose ecco questo perché voi lo sappiate ho cinque minuti bene segue l'Afghanistan nell'89 il governo Bush decide che sono stati gli afghani ad abbattere le torri sapete come è andata a finire ci sono dieci anni di tregua e poi si ricomincia con l'Iraq fra le altre cose per quel periodo avevano deciso di gli Stati Uniti avevano concesso un contratto oil for food oil for food significava che tutto il petrolio che veniva venduto i denari venivano usati per cibo o supporto ma anche lì con delle regole assurde cosa è successo che a un certo punto Saddam Hussein ha chiesto che l'introito che doveva servire per il contratto oil for food fosse in euro non in dollari e depositato alla Banque de Paris questo secondo me gli è valsa poi l'impicchiazione perché non bisogna toccare il dollaro bene hanno lasciato naturalmente dietro di loro gli americani dei crimini orrendi che Wikileaks ha testimoniato con documenti e sappiamo cosa sta succedendo a Julian Assange la Libia la Libia era indipendente con un alto livello di crescita quindi doveva essere abbattuta in più il colonnello non voleva di condividere con le grandi sorelle l'introito del petrolio gliene dava molto poco in più pensava a questo punto di battere una moneta nuova una moneta panafricana che chiaramente avrebbe infastidito sia il dollaro che il franco coloniale che praticamente girava in 14 ex colonie francesi il 31 gennaio del 2011 Gheddafi avvia la creazione del fondo monetario africano avrebbe dovuto avvenire entro quello stesso anno e in pratica intendevano creare tre organismi finanziari il fondo monetario africano con sede in Camerun la banca centrale in Nigeria la banca di investimenti a Tripoli lo scopo di questi organismi era creare un mercato comune africano la segretaria di stato del governo Obama Hillary Clinton in accordo col francese Sarkozy con uno scambio di messaggi che è stato trovato da Wikileaks praticamente decidono di chiudere la situazione bombardano distruggono la Libia e sappiamo che disastro è al momento attuale nel 2011 attaccano il paese fra l'altro i depositi di 150 miliardi di dollari in varie banche europee sono stati bloccati e una buona parte evaporata non si sa dove siano andati quindi attualmente la situazione la conoscete e gli introiti del petrolio sono incassati da gruppi di potere e multinazionali e i lavoratori africani che proprio in questo progetto lavoravano in Libia sono perseguitati e ricattati e sono vittime che voi conoscete molto bene da questo si passa a un certo punto alla Siria con lo stesso protocollo che vi ho raccontato per fortuna ah no ecco questo voglio dirvi in un documento ufficiale risulta che i paesi occidentali la Turchia gli stati del Golfo sostengono l'opposizione fra virgolette siriana per instaurare un principato salafita in un paese eminentemente sunnita e nel dicembre del 2012 la segretaria di Stata Hillary Clinton con un documento segreto non vi dico i numeri che è inutile però li ho parla di una relazione strategica fra Siria e Iran e suggerisce il rovesciamento di Bashar al-Assad per favorire Israele come unica potenza nucleare nell'area nel 2013 il presidente Obama autorizza un'operazione segreta Timber Sycamore finanziata da Riyadh per infiltrare e addestrare presunti ribelli perché poi dicono che ci sono i ribelli ma non si sa bene da quale parte vengano e tramite la CIA lo scopo di armare e addestrare e addestrare presunti ribelli in Siria questa notizia sarà pubblicata dal New York Times il 24 gennaio 2016 per cui è tutto molto chiaro come ha detto Maglio è evidente non lo nascondono nemmeno più Assad viene accusato per di aver impiegato le armi chimiche ecco la scusa in realtà il 2 luglio del 2013 una nave danese Art Futura aveva ricevuto le armi chimiche consegnate a Gioia Tauro poi non so che fine ne abbiano fatto e gli americani bombardano 20 siti per fortuna l'intervento russo equilibra un po' la situazione e c'è ancora un statu quo l'unica cosa è che adesso i russi hanno imposto un altro ritmo agli attacchi USA-NATO e attualmente la Russia sta portando avanti una mediazione fra Iran Turchia e Siria il 19 luglio del 22 a Tern hanno adottato una dichiarazione sul rispetto dell'integrità del territorio ossidiano e di prevenire qualsiasi azione che intenda violare la risoluzione 2254 del consiglio di sicurezza dell'ONU ma verrà violata lo stesso ma allora mentre la NATO si estende alle frontiere russe la Russia più volte come abbia anche detto Maglio richiede la neutralità dell'Ucraina senza avere una risposta voi sapete già i gruppi Azov vengono finanziati vengono allenati c'è la rivoluzione colorata insomma tutto come da protocollo e quindi siamo qui al punto in cui siamo la risposta secondo me la Svezia e la Finlandia abbandonano la neutralità per cui altri due paesi contro la Russia e siamo in questa situazione gravissima io a un certo momento vedo che si può aprire un altro fronte nei Balcani usando il Kosovo ma principalmente perché vogliono interrompere il Turk Stream e la situazione è molto grave perché questa volta la Russia non abbandona ai Balcani quindi se la se la cose vanno troppo in là potrebbe essere veramente una situazione grave poi cosa ci si aspetta adesso si stanno muovendo anche gli americani verso Taiwan io ho ricevuto ieri un messaggio che Radio France ha parlato di un possibile attacco di Israele all'Iran nei prossimi giorni col benplacito degli Stati Uniti quindi questa è la nostra situazione tra le altre cose quindi se l'Iran che comunque è stato anche nell'occhio del ciclone degli americani perché la questione delle donne senza velo che delle proteste sembrano molto delle rivoluzioni colorate io sono d'accordo che le donne non devono portare il velo ma queste situazioni sono anni che vanno avanti con proteste come mai solo adesso si dà tanta pubblicità a tutto questo fa parte del protocollo e allora questa è la situazione per concludere ecco la cosa grave è questa che potrebbe veramente scatenare fino a una bomba atomica la prima di tutto perché gli americani hanno sbiancato diciamo il pettigrì delle origini di Azov ormai non sono più come d'altra parte l'UCCA in Kosovo non sono più guerriglieri ma diventano gli eroi della patria e lo sono già la Russia con la Cina con l'India con l'Iran con l'Afghanistan e i BRICS stanno cercando di organizzare un altro diciamo un'altra sponda ma se questi e l'Algeria ha chiesto di entrare nei BRICS fra l'altro se questi come pensano come pare abbiano in progetto battono una moneta che sia praticamente una controparte al dollaro io la vedo molto male e per concludere le forze statunitense in senato hanno sdoganato la corruzione che anzi è un'arma di guerra sono intervenute per instaurare la democrazia e quando sono intervenute hanno lasciato dietro di sé instabilità disordine miseria grazie ecco ecco allora qualche comunicazione i libri di Gene Toschi sono ancora in circolazione e vi segnalo che ad esempio lei ha parlato molto di Kosovo ha scritto l'ho citato nell'introduzione la porta d'ingresso dell'Islam l'ha scritta nel 2016 edito da Zambone ed è di estrema attualità perché sette anni fa tu hai scritto hai previsto no no ti do questo quello che si sta verificando questo funziona dunque il corridoio è stato pubblicato da Manes della Città del Sole ed è forse il documento più interessante perché vi racconta come le cose stavano visto che io mi sono fatta tutte le linee del fronte e poi invece vent'anni dopo io ho voluto rifare i percorsi che avevo fatto quando avevo organizzato il viaggio di Elie Wiesel in Bosnia e mi sono ritrovata con un paese perfettamente ricostruito in ordine sembrava la Svizzera più ordinato che noi tutto funzionava ma il problema è che ciascuno vive nel suo ghetto cioè si passa dalla zona della federazione croato-musulmana a quella a quella serba benissimo non ci sono frontiere ma nessuno non c'è mescolanza ciascuno nel suo ghetto l'odio è alle stelle e fra le altre cose è un odio generalizzato cioè i musulmani odiano i serbi i croati disprezzano i musulmani per esempio in Erzegovina nella capitale c'è una strada che divide la città da un lato i musulmani dall'altro i croati ecco questo è il risultato quello che colpisce quando ascoltiamo Gin Toschi è che parla sempre per esperienze dirette sul campo vorrei dire due cose poi andiamo avanti sono un pessimo gendarme me ne sto rendendo conto ha ricordato sì ci ricordava Gin che avete visto che ha seguito un testo scritto ha detto che ce lo mette a disposizione ho visto molti prendere appunti e bene avete fatto naturalmente ma avrete anche poi l'aiuto addirittura del testo integrale due cose velocissime ha ricordato anche Wikileaks e Assange vi ricordo che su questo parlerà espressamente l'amico Patrick Boylan poi ha parlato anche degli effetti da lei visti dell'urano uranio impoverito e vi ricordo che tra gli organizzatori di questa due giorni c'è proprio l'associazione dei familiari delle vittime dell'urano impoverito siamo sempre in tema bene stiamo slittando ma non tantissimo e il terzo intervento sarà registrato perché è quello di Alberto Negri Alberto Negri moltissimi impegni non poteva intervenire neanche online come ha fatto Maglio Di Nucci pertanto è stato registrato e possiamo trasmettere se non ci sono problemi tecnici no non ci sono la registrazione anche Alberto Negri è molto noto comunque qualche parola anche del suo profilo professionale è giornalista professionista dal 1982 è stato ricercatore poi consigliere dell'ISPI di Milano sapete che è l'istituto di studi di politica internazionale redattore della rivista settimanale relazioni internazionali è stato inviato di guerra per oltre trent'anni del sole ventiquattro ore nei principali quadranti bellici e attualmente editorialista del manifesto dal 2007 ha ricevuto diversi premi nazionali internazionali per la sua attività di giornalista ha insegnato negli ultimi anni relazioni internazionali storie del Medio Oriente contemporaneo giornalismo al master del sole ventiquattro ore eccetera è autore di alcuni libri tra cui il turbante e la corona Iran trent'anni dopo uscito nel 2009 il musulmano errante storia degli alawiti e dei segreti del Medio Oriente il suo ultimo testo è Bazar Mediterraneo infine nel 2014 con Italo Spinelli ha realizzato il lungometraggio Terre d'Islam storia delle rivolte arabe comincio subito così poi riusciamo concentrare tutto no dicevo nell'introduzione avete detto che io ho una grande esperienza di guerra è vero però attenzione le guerre si sa come cominciano non si sa mai come finiscano questo non c'è dubbio non c'è dubbio alcuno è inutile citare dal Vietnam in poi tutte le guerre cominciate con un'idea che poi sono finite in tutt'altro modo ma anche recentemente ne abbiamo avuto una prova nel 2021 con il ritiro occidentale della Nato oltre che degli americani dall'Afghanistan la guerra in Iraq del 2003 che poi si è risolta in un'anartia sanguinosa che è durata per 12-13 anni in quel paese con centinaia di migliaia di morti per non parlare della Libia perché dopo l'abbattiamo che lì un'operazione USA Stati Uniti Gran Bretagna e Francia ma poi sotto l'ombrello della Nato che è finita sì con l'uccisione di Gheddafi ma con un paese che ancora oggi dopo quasi 12 anni dalla scomparsa del dittatore è un paese diviso e anche quello fuori fuori da un reale da un reale controllo ecco perché anche questa guerra in Ucraina non si sa quando si depositerà la polvere della battaglia cosa si lascerà dietro certo oggi vedendo quello che accade siamo di fronte più a un escalation che non a delle azioni diplomatiche questo non c'è dubbio in questi ultimi giorni abbiamo visto che sono stati mandati i primi carri armati mandati si è stabilito di mandare i carri armati che arriveranno forse a marzo aprile che gli Stati Uniti hanno deciso di mandare nuove dotazioni missilistiche a lunga gettata stanziando altri 2 miliardi di dollari si discute sulla questione di un'aviazione ucraina fatta di F-16 americani ma lì gli americani hanno frenato altri paesi europei come la Francia hanno fatto intravedere delle possibilità di apertura la Germania di Scholz invece ha avuto una reazione di chiusura perché stiamo parlando di questo perché quando si combatte sono in realtà spesso e volentieri le armi che parlano ma come può come dire andare avanti questo conflitto ma prima di tutto non c'è dubbio qualcuno che ci saranno ancora vittime già ce ne sono state decine forse centinaia di migliaia profughi distruzioni e probabilmente non si è ancora capito bene non si è espresso ancora la Nato e gli Stati Uniti su quelli che sono gli obiettivi finali come la Russia stessa ha dei problemi in realtà far capire che cosa vuole fare perché ha rinunciato a quanto pare per il momento almeno all'obiettivo principale che era andare a Kiev e abbattere il governo Zelensky ma non abbiamo capito fino a che punto è intenzionata ad andare avanti in questo conflitto per ora sembra che addirittura si voglia moltiplicare la mobilitazione gli uomini la leva militare obbligatoria ma attenzione tutte queste sono mosse che in qualche modo possono essere pagate anche dal Kremlin che cos'è che aleggia aleggia l'interrogativo il paio di interrogativi e di osservazioni il primo interrogativo è fino a che punto gli Stati Uniti e la Nato sono disposti a sostenere a sostenere l'Ucraina quali sono gli obiettivi riconquistare i territori tutti i territori occupati dai russi la Crimea che ruolo avrà questo è indubitabilmente l'interrogativo o continui ad alimentare questo conflitto oppure c'è un'altra strada che è quella che mi sembra abbiano imboccato cioè sì dare delle forniture militare all'Ucraina ma allo stesso tempo come dire sperare o puntare sul logoramento di entrambi i deligeranti Russia e Ucraina stessa non sarebbe poi la prima volta nel 1980 quando l'Iraq invase invase l'Iran la guerra andavanti a otto anni con un milione di morti se è vero che l'Occidente sosteneva il regime di Saddam Hussein è anche vero che gli Stati Uniti cercarono tutti i modi che nessuno dei due vincesse questa guerra che poi si stabilizzò nel cessate il fuoco sullo Shat l'Araba quella è una guerra che non cambia neanche un centimetro del confine tra i due paesi poi bisogna chiedersi in questo cercare di determinare quali sono gli obiettivi ucraini e gli obiettivi russi cercare di distinguere tra quella che è la propaganda e quella che sono che è la realtà che possa essere una realtà raggiungibile aleggia sia da una parte che dall'altra un po' il mito della vittoria totale lo come dire evoca Putin dicendo che in qualche modo questo questo regime questo governo credino deve essere abbattuto non per il momento non vuole arretrare evoca ogni tanto il cambio di governo anche a Kiev e dall'altra parte il governo di Zelensky anche per motivi ovvi di propaganda continua a dire beh noi vogliamo riconquistare tutti i territori perduti dopo il 2014 qualcuno addirittura ha evocato la riconquista della Crimea ma è evidente che questo mito della vittoria totale da una parte e dall'altra potrebbe diventare disastroso per tutti e due i fronti perché già come dire Putin dovrà giustificare il fatto di un conflitto prima o poi cui aveva promesso di far fuori il governo ucraino e poi dovuto arretrare sulle posizioni sulle posizioni del Donbass e dall'altra parte finito il conflitto perlomeno sperando che si arriva in cessato il fuoco probabilmente anche Zelensky dovrà accettare un compromesso sulla questione della riconquista dei territori che teniamo presente questi territori del Donbass in buona parte sfuggivano ormai da tempo al controllo del governo di Kiev quindi questo mito della vittoria totale sarebbe però il primo da dover essere smontato da una parte all'altra per cercare di portare i due contendenti a un cessato due contendenti attenzione perché questa ormai è diventata una guerra già allargata perché non ci si può nascondere dietro un dito ipocritamente e non pensare che la Nato e gli Stati Uniti siano dei cobelligenanti quando si forniscono armi offensive con carri armati con missile lunga agitata si evoca la possibilità addirittura di fornire dei cacciabombardieri non si è più come dire nell'ambito di aiutare una nazione aggredita ma si diventa dei partecipanti dei partecipanti al conflitto questo in qualche modo è quello che si deve preoccupare di più poi gli esiti gli esiti dell'andare avanti in un tentativo di soluzione militare che appare complicato per tutti e due l'Ucraina non ha abbastanza forze umane mezzi di potenza per contrastare la Russia e già molto quello che è riuscita a fare in un certo modo cioè rispingere l'attacco alla capitale e come dire ad aprire un fronte che è poi quello che corre la linea del fiume di Niet lì stiamo ormai da tempo vediamo se le così dette profilate offensive dei russi porteranno a risultati a risultati diversi però appunto ogni offensiva ogni azione militare soprattutto su una certa scala implica delle forti incognite sia per gli uni che per gli altri il ruolo della Nato ma il ruolo della Nato ormai è di fronte agli occhi di tutti non essendoci un ruolo europeo vero e proprio non è da oggi che l'alleanza atlantica determina la politica di difesa ed estera europea vogliamo riguardare un attimo al passato negli ultimi vent'anni la Nato ci ha portato l'intervento in Kosovo nel 99 e ai raid aerei su Belgrado la Nato ci ha portato in Afghanistan compreso quel ritiro del 2021 malamente vissuto da gran parte degli alleati degli Stati Uniti che erano stati avvertiti in tempo la Nato ci ha portato in Libia l'intervento italiano nel 2011 si è svolto sotto l'ombrello dell'alleanza dell'alleanza atlantica insomma interventi militari distanti anche dall'ambito dell'alleanza atlantica come l'Afghanistan in un certo senso molto come dire discutibili come quello in Libia sono stati fatti con gli europei che si sono principali paesi europei che si sono sdraiati sulla linea dell'alleanza atlantica della Nato oggi chi parla di difesa europea se ne parla nell'ambito di quelle che sono le technicalities le tecnologie i missili che manderemo che l'Italia manderà insieme alla Francia sono il risultato di una batteria di missili che sono state prese da consorzio Rosam consorzio con dentro i francesi con dentro anche un po' gli inglesi eccetera il cacciatornado è un aggiornamento che ha l'Italia con la Gran Bretagna per esempio ci sono collaborazioni dal punto di vista tecnologico però manca la testa come dire della politica estera e di difesa europea quella politica comune che non è mai stata delineata questo è un fatto purtroppo storico purtroppo è un fatto storico cioè gli europei non sono stati capaci di definire degli interventi comuni non solo ma guardando agli effetti di questo conflitto si capisce che ci sono visioni differenti da parte degli europei all'interno della stessa unione basta vedere questa divisione che c'è fra est e ovest la Polonia i paesi baltici si sono fatti come dire portatori di una linea anche perché sono confinanti con la Russia molto più dura dal punto di vista bellico rispetto a paesi come la Germania Germania di Schultz è un paese che è intervenuto anche pesantemente perché ha staziato più di un miliardo di aiuti militari la Germania però è un paese che si vede spesso contrario in contrasto con come dire le linee che vengono dettate dai paesi dell'est e baltici il famoso gruppo di Tallinn di cui si è parlato molto nelle scorse settimane e questo è una cosa da tenere presente la Polonia ha stanziato 30 miliardi di euro in questo ultimo anno e mezzo per le spese della difesa diventerà sicuramente uno dei paesi militarmente più forti esclusi dell'Unione Europea esclusa la Francia il discorso Gran Bretagna lo facciamo dopo anche perché è uscita con la Brexit e quindi l'Unione Europea tra l'altro è rimasta come un solo paese membro del Consiglio di Sicurezza e con un nazionale nucleare che è la Francia quindi l'uscita da Brexit ha segnato anche da quel punto di vista un indebolimento del potere negoziale eventuale potere negoziale dell'Unione Europea tenendo presente che peraltro gli inglesi si sono sempre quasi sempre schierati anzi sempre schierati con la linea degli Stati Uniti e di Washington non con quella di Bruxelles dell'Unione Europea a Bruxelles quindi c'è questo questo aspetto importante non solo ma vediamo che questo conflitto doveva in qualche modo eh dovrebbe dal punto di vista dell'alleanza atlantica portare un allargamento della stessa alleanza e il famoso ingresso contrastato dalla Turchia della Svezia e della Finlandia questo ingresso è stato frenato da quell'episodio di quel deputato danese con nazionalità svedese che ha bruciato il Corano davanti l'ambasciata turca di Stoccolma che ha portato Erdogan e si fa sempre paladino di quelle che sono le istanze del mondo musulmano a sospendere questi negoziati però è una sospensione che sappiamo probabilmente durerà fino a giugno di quest'anno perché ci sono elezioni politiche presentate in Turchia ed Erdogan vuole in qualche modo essere confermato al potere e vuole far vedere che insomma è l'uomo forte della situazione sapendosi opporre persino alla Nato non è una novità Erdogan ha preso la Nato come ha fatto con tutto il resto come diceva un vecchio proverbio ha preso la Nato come aveva preso all'inizio il negoziato Unione Europea come si prende il tram pronto a scendere la prima fermata quando gli fa comodo l'atteggiamento della Turchia da questo punto di vista è stato emblematico unico paese dell'Alleanza Atlantica che non ha imposto sanzioni e questo che cosa ci dice che un paese nato con una forte leva politico militare come la Turchia il primo esercito dell'Alleanza Atlantica in Europa può determinare come dire certi equilibri la Turchia è intervenuta militarmente in Siria è intervenuta militarmente in Azerbaijan è intervenuta militarmente in Libia è intervenuta militarmente in Somalia è un paese che ha fatto prima di tutto la sua politica a dispetto di quelli che erano anche i dettami della Nato tanto è vero che gli Stati Uniti per esempio hanno reagito finora bloccando le forniture le cacce F-16 e congelando il programma curto americano sugli F-35 Erdogan mantiene rapporti direi abbastanza cordiali con tutti non ha messo sanzioni quindi continua a importare il gas da Mosca continua a commerciare con con la Russia e allo stesso tempo si fa garante per esempio del passaggio delle navi col grano nel Mar Nero e poi lo stretto del Bosco che è il vero asset uno dei veri grandi asset strategici della Turchia ma questi equilibri turchi non erano cominciati con Erdogan Erdogan li ha saputi sfruttare farli diventare come dire espliciti a volte in maniera anche clamorosa ma la Turchia si era già accorta con la caduta del muro di Berlino e con la fine dell'Unione Sovietica che si aprivano enormi spazi per un paese come la Repubblica temalista già negli anni 90 quindi questo conflitto in qualche modo ha messo in luce delle tendenze delle tendenze che sono quelle che ci dicono che la stessa alleanza atlantica potrebbe diventare sbilanciata allora finora l'avevamo vista fino a la vigilia di questa guerra come ovviamente una locomotiva degli Stati Uniti ma ovviamente con un paio due tre attori che erano Gran Bretagna Francia e Germania di primo piano di primo piano oggi questo primo piano questa natura come dire atlantica occidentale è sempre di più come dire se non oscurato attenuato direi dal protagonismo dei paesi dell'est di paesi come la Turchia via discorrendo questo ha limitato molto comunque questo prevalere come dire di alcuni paesi sui margini di manovra dell'Unione Europea e occidentale in genere e vedete noi guardiamo questo conflitto molto spesso sempre dal nostro punto di vista guardato da altri da altri quadranti le cose stanno un po' diversamente cioè qualche giorno fa leggevo un ottimo reportage sul New York Times di Roger Cohen un giornalista che tra l'altro conosce benissimo l'Europa anche l'Italia di cui parla bene anche la lingua e Roger Cohen andava a intervistare il ministro degli esteri indiano e il ministro degli esteri indiano ha detto cosa pensa la domanda di il conflitto in Ucraina il ministro degli esteri indiano non stava molto chiaro e ha detto voi europei siete bravissimi a far diventare i vostri problemi i problemi di tutti ma quando noi abbiamo dei problemi questi problemi restano nostri e basta evidenziando quello che poi è successo cioè nessun grande paese dell'Asia o dell'Africa si è messo in ruota di collisione davvero con Musk due terzi dell'umanità virgono stati che o ha messo sanzioni o comunque le ha in maniera molto molto limitata nello stesso Medio Oriente alleati storici come i Sauditi non hanno messo sanzioni a Mosca e si rifiutano di abbassare il peso del petrolio come chiesto dagli americani perché hanno l'OPEC plus che implica anche il rapporto con la Russia cioè se noi guardiamo e diamo lo sguardo di questo conflitto vediamo che questo conflitto come dire non necessariamente finisce bene anche per l'Occidente anche nel caso di vittoria dell'Ucraina vittoria poi come dicevamo prima che non può essere completa né per gli ucraini né per probabilmente neppure per per Mosca cioè ci ritroveremo con Europa come si è capito sin dall'inizio più debole la guerra del gas è stata evidente sin dalle ore della vigilia del conflitto chiunque si interessi di queste cose sapeva perfettamente che dipendevamo per 45-50% dal gas russo per un motivo molto semplice avevamo le palpe e ne costava meno l'approvvigionamento energetico tedesco e italiano maggiore misura per la Germania ma anche per noi dipendeva da questo e lì la guerra è cominciata prima la guerra non comincia parte nel 2014 con la secessione del Donbass la Crimea l'occupazione russa della Crimea ma anche quest'ultima tornata era cominciata mesi prima per chi segue minimamente queste cose e non si presenta in televisione a dire le sciocchezze che sento dire tutti i giorni la guerra è cominciata nei suoi prodromi mesi prima e in particolare quando nel primavera estate del 2021 gli Stati Uniti hanno messo sotto pressione la Germania per il nostro indur gli Stati Uniti non lo volevano ci sono i documenti del congresso di partis tra democratici e repubblicani che chiedevano l'interruzione del nostro indur che stava per essere per essere completato al punto che la signora Merkel pur come in qualche modo di attenuare l'opposizione degli Stati Uniti aveva persino accettato una fornitura di gas sliquefatto americano che non sapeva neanche cosa farne perché non avevano i raggiassificatori oggi ne hanno soffi evidente che questo avrebbe aperto un contenzioso con la Russia stavamo nella fase finale dell'era Merkel gli americani avevano capito in qualche modo che potevano esercitare queste pressioni e dall'altra parte Putin ha capito che la Merkel che stava per uscire di scena non era sufficientemente come dire forte per poter occursi alle pressioni americane non a caso che poi uno dei tanti episodi misteriosi che ci sono stati in questi mesi è stato quello che ha fatto saltare che ha fatto saltare un tratto del nostro in due ma guardate che era prima anche la storia gli Stati Uniti non volevano che l'Europa prendesse gas dalla Russia l'Italia aveva fatto il South Stream l'Italia ha fatto due questi collagi uno è il Bruce Stream che fu inaugurato alla fine degli anni 90 che portava il gas da Mosca in Turchia e l'altro che avrebbe portato il gas della Russia girando l'Ucraina sempre attraversando i Balcani Meridionali fino alla Turchia quel gas 2 miliardi di dollari commesse fu fatto saltare e alla fine Erdogan e Putin si sono messi d'accordo per farlo insieme senza l'Italia che era sempre stata protagonista di questi lavori questi legami economici molto forti energetici sono stati tra Europa e la Germania sono sempre stati ampiamente osteggiati e attenzione per quando prima io dicevo vedete le guerre si sa come cominciano non si sa come finiscono proprio a proposito del gas vi racconterai un piccolo episodio vero ovviamente nel 2021 vengo convocato per una conversazione dall'amministratore delegato dell'Egni De Scarsi dal suo vice Pistelli che conosco da molti anni siamo lì tre ore a parlare alla fine io faccio anche delle domande ovviamente su alcuni settori specifici e chiedono insomma questa lì poi abbiamo un gasdotto molto importante che però è quasi sempre vuoto porta quantità di gas la vogliamo rimettere in sesto non si parlava in quel momento di guerra stava molto lontani però è evidente che se tu hai un gasdotto uno con l'Algeria e uno con la Libia quello con la Libia tra l'altro su 540 km e hai il gas offshore ti domandi come mai tu lo metti eh c'è troppa stabilità gli investimenti sono sono grossi poi non sono garantiti e tutte queste cose e poi soprattutto mi dice le scarse abbiamo tanto il gas russo che costa meno e le società fanno conti finanziari perché tutte le grandi società energetiche sono ovviamente guardate in corsa hanno le famose trimestrali da rispettare e magari hanno guardato meno a certi obiettivi strategici che come dire dovevano portare una diversificazione tenendo presente che la diversificazione l'Italia l'ha sempre fatta noi prendevamo prendiamo gas da 50 anni dall'Algeria lo prendiamo lo prendevamo dalla vita dalla Libia come lo prendevamo anche dall'Egitto come avevamo deciso per esempio di prendere gas da liquefare in paesi come l'Angola e il Mozambico prima di questo conflitto però si fanno dei conti economici i conti economici erano a favore del gas semplicemente del gas del gas russo queste sono considerazioni che ci fanno capire perlomeno ci fanno cercare di riflettere sul fatto che per la NATO e per i paesi europei questo conflitto era già iniziato prima nel momento stesso in cui gli Stati Uniti fanno barriera sulla cooperazione energetica con la Russia beh quello è il momento clou della questione vuol dire che ti stanno mandando un messaggio molto evidente molto forte questi legami con la Russia in qualche modo devono essere tagliati e la guerra è venuta precisa la guerra decisa da Putin è venuta non è stata casuale io non non so fino a che punto in che modo e fino a che punto sia stata presa questa decisione Russia di aggredire in maniera brutale l'Ucraina ma certamente non è stata una decisione su cui tutti erano d'accordo vi faccio presente quello che è successo il 21 febbraio il tre giorni prima dell'invasione quando c'è questa riunione del consiglio di sicurezza a Mosca in diretta televisiva peraltro e dove ho visto una scena che non avevo mai vista in vita mia col capo dei servizi esteri Narishkin cioè uno degli uomini che comandano davvero che balbetta di fronte a Putin tutti sugli obiettivi dell'invasione dell'Ucraina dell'attacco cioè Putin diceva guardate che riconosceremo le repubbliche del Donbass e Narishkin diceva ma come annettiamo le repubbliche del Donbass che cosa che peraltro è successa qua a settembre no? otto mesi dopo ma come il capo dei servizi esteri non sa che quali sono i piani militari ma non scherziamo Narishkin con quella sorta di balbettiva in realtà segnalava probabilmente a suo modo di non essere troppo d'accordo come non è un mistero che molti diplomatici russi all'estero non sapessero ben poco dell'invasione dormivano Raso dormiva qua a Roma dormiva la sua ambasciata quella notte e molti militari delle altre gerarchie molti generali non avevano ben presente che cosa si andasse a fare poi naturalmente non tutti i cambi che ci sono stati ai vertici militari di Putin sono stati abbastanza emblematici no? da questo punto di vista cioè di una campagna militare che è andata piuttosto male rispetto agli obiettivi agli obiettivi iniziali senza contare il fatto che questa Russia presenta diversi interrogativi probabilmente quello minore su quello delle sanzioni perché hanno influito in maniera limitata come sempre è stato anche passato sulle sanzioni addirittura il fondo monetario ci ha detto che l'economia russa quest'anno e l'anno prossimo crescerà dati recentissimi di poche ore fa quindi abbiamo di fronte una situazione bellica che probabilmente è detenata a continuare di cui non vediamo una via di uscita di uscita e sulla quale lo stesso capo di stato maggiore americano Mark Mills ha sollevato pesanti dubbi e ombre perché nel novembre scorso due mesi fa in un suo discorso a New York ha detto esplicitamente guardate che la soluzione militare non è sufficiente ci vogliono altri mezzi per arrivare alla fine di questo conflitto e su questi mezzi ancora purtroppo che dovrebbero essere quelli della diplomazia non si è ancora arrivati a un punto come dire che ci possa spasperare in travedere un futuro di pace dunque abbiamo accumulato come era facilmente prevedibile sin da questa mattina un ritardo di 20 minuti che naturalmente non deve ricadere a danno del quarto relatore sono sicuro sono sicuro cioè Antonio Mazzeo che è qui al mio fianco era previsto lo vedete nel programma uno spazio molto breve peraltro dalle 12 e 30 alle 13 per il dibattito ma direi che noi concediamo ad Antonio tutto lo spazio di cui ha bisogno cioè come gli altri perlomeno una mezz'ora anche un piccolo sforamento di 5 minuti salta io spero che siamo tutti d'accordo su questo il piccolo dibattito che era previsto ci prendiamo una bella pausa perché con tutte le informazioni che abbiamo accumulato non so voi io ne ho bisogno ci prendiamo una pausa mangiamo e poi riprendiamo i lavori che si stanno rivelando veramente estremamente interessanti allora anche Antonio Mazzeo non avrebbe bisogno di presentazioni invece qualche riga la leggiamo docente poi mi piace questa definizione di peace researcher ricercatore di pace no? è giornalista attivista ecopacifista antimilitarista è stato uno dei protagonisti del movimento contro i cruis a comiso e cofondatore del movimento no base sigonella è impegnato sui temi della pace della militarizzazione del territorio e della scuola dell'ambiente dei diritti umani e della lotta alla criminalità mafiosa in Sicilia ha pubblicato diversi saggi su questi temi gestisce un blog sul quale quasi quotidianamente scrive articoli sui temi citati collabora con Peace Link tra i vari libri ma in cui ho sito confesso non lo conoscevo ha iscritto anche i padrini del ponte affare di mafia sullo stretto di Messina e infine ha ricevuto il premio Bassani Italia Nostra 2010 per il giornalismo a Roma nel 2020 è stato premiato dall'archivio di Sarmo con la colomba d'oro scusate per la pace quale riconoscimento testuale virgolettato e la motivazione per aver interpretato per anni il giornalismo e la scrittura come una missione di difesa dei diritti umani e di denuncia delle ingiustizie a lui la parola ovviamente ringrazio ovviamente ringrazio dell'invito cerco di essere velocissimo perché siamo stanchi veramente le relazioni sono state straordinarie io mi permetto soltanto non era previsto nel mio intervento però mi ha colpito un aspetto importante proprio di Alberto Negri che poneva il problema della cobeligeranza ebbene a un anno di distanza consentitemi di dire che abbiamo un ritardo come movimento no guerra ancora continuiamo a porci il problema che l'unico intervento a favore di questa guerra sia l'invio di armi oggi al sesto decreto purtroppo l'Italia ha fatto molto ma molto di più a dimostrare questa cobeligeranza e probabilmente i dibattiti mainstream in televisione hanno impedito di far conoscere agli italiani quello che è il ruolo determinante in prima linea del nostro paese quotidianamente da prima del 24 febbraio dalla base di Sigonella in Sicilia decollano pattugliatori della marina militare statunitense droni statunitensi droni della Nato pattugliatori dell'aeronautica militare italiana che svolgono attività di monitoraggio e di intelligence fornendo informazioni strategiche per le operazioni di attacco delle forze armate ucraine l'evento più emblematico di cui ha parlato la stampa internazionale ma non ha parlato la stampa italiana è l'affondamento della Moscova la nave ammiraglia della marina russa nel Mar Nero un evento che tra l'altro ha cambiato anche la propaganda e la visione ideologica di questa guerra e ha rappresentato anche un ulteriore escalation del conflitto noi dimentichiamo di avere reparti italiani oggi un militare su tre presente nelle missioni internazionali all'estero è stato schierato in Europa orientale in Lituania in Ungheria e in Bulgaria dove abbiamo il comando anche del battaglione di pronto intervento della Nato abbiamo caccia bombardieri in Romania a Costanza sul Mar Nero ma li avevamo a cento chilometri dall'enclave di Kaliningrad che sapete che è stato uno anche degli elementi di questo accerchiamento e di accelerazione del conflitto di cui parlavi di cui parlavi te di cui parlava Maglio poco fa ma abbiamo spostato la marina militare ulteriormente nel Mediterraneo allargato particolarmente nel fronte orientale nel Mediterraneo orientale eccetera noi stiamo fornendo supporto come gasolio eccetera le emissioni dei cacciabombardieri statunitensi di altri paesi nato da Pisa da pratica di mare partono gli aerei cisterna che forniscono le operazioni sono state anche operazioni fatte dai bombardieri strategici B-52 per le proprie provocazioni rispetto alla Russia in questo conflitto e la guida e la protezione aerea è stata fatta dai cacciabombardieri partiti dalla base di Amendola da pratica di mare provincia di Roma partono gli aerei di intelligence aerei che abbiamo acquistato sono di coproduzione statunitense e israeliana che hanno anche questi un ruolo determinante nelle funzioni di intelligence e di innalzamento dell'escalation di questo conflitto non vorrei dimenticare che se dovessimo mandare una delle batterie di Samp quella di cui ci parlava di coproduzione italo-francese avremo un'ulteriore escalation perché non sono batterie che possiamo consegnare chiavi in mano alle forze armate ucraine non sono cannoni non sono strutture che puoi dare tranquillamente che loro possono utilizzare sono necessari mesi probabilmente anche sei mesi di formazione di addestramento ciò comporta o l'invio italiano e alcuni settori delle forze armate italiane hanno posto questa questione il dubbio l'interrogativo se siamo in grado se siamo pronti a pensare di mandare tecnici italiani in Ucraina a formare all'utilizzo dei Samp oppure ospiteremo tranquillamente nel nostro paese i militari ucraini ovviamente ci rendiamo conto che questo comporta un ulteriore passo in avanti per una presenza diretta del nostro paese in questa guerra questo lo dico consentitemi era fuori dal mio intervento però veramente a un anno di distanza non prendere coscienza del ruolo determinante del nostro paese in questo conflitto credo che ci spinga veramente a una possibilità di trovarci veramente sul barato di questa guerra a me è stato chiesto di parlare un po' delle relazioni tra Nato Unione Europea ONU io sull'ONU devo essere sincero ho provato a documentare e cercare di raccogliere l'orientazione ma devo riconoscere elettroencefalogramma piatto soprattutto in queste vicende per cui consentitemi di non parlarne se non eventualmente proprio di passaggio quello che credo vada a posto è già stato anche consentibile solo un passaggio sulla necessità di evitare le semplificazioni in tutti gli interventi si è posto il problema che tutte le cose sono molto più complesse non c'è una logica binaria la Nato e l'Unione Europea non sono due blocchi monolitici c'è stato spiegato c'è stato detto eccetera come le contraddizioni e i conflitti al loro interno le diverse visioni dei paesi membri dei gruppi trasnazionali dei gruppi energetici del complesso unitario industriale di questi paesi modificano tanto le relazioni anche la compattezza e la solidità questo lo dico perché anche se poi esemplificherò degli esempi cerchiamo di tenere sempre a mente che non stiamo parlando di strutture che non siano assolutamente piene di contraddizioni anche con le problematiche di cui Alberto Negri ci dice rispetto a quello che potrebbe accadere a breve termine io qualche mese fa su Mosaico di Pace avevo definito la Nato un po' se non fosse altro che una macchina di morto una macchina di distruzione mi ricordava l'araba fenice tutte le volte che è data per morta risorge alle sue ceneri io non vorrei quanto abbiamo dimenticato è vero che il tempo le immagini la propaganda vanno con una velocità enorme ma penso sempre a quello che ai talk show degli stessi che oggi si siedono a discutere di Ucraina che discutevano della fuga ignobile da Kabul la Nato basta cioè non ha senso questa struttura sono gli americani che la governano che decidono cosa si fa dove si fa eccetera poi se ne vanno e lasciano gli europei è il momento in cui l'Europa faccia sentire con forza la sua capacità la sua potenza la sua logica e anche le sue visioni geostrategiche differenti da quelli del Pentagono da quelli del capitale transnazionale con base negli Stati Uniti dopo un anno la guerra scoppiata in Ucraina ha desertificato il dibattito anche all'interno di quegli stessi soggetti che battevano il pugno e chiedevano un'unione europea forte e chiedevano anche forze armate europee che dev'essere una visione europea al contrario in parte era già successo con la pandemia la pandemia e soprattutto l'approccio militare nella risposta alla pandemia la delega che è stata data da tutti i paesi l'Italia lo sappiamo benissimo pensiamo al generale Figliuolo eccetera alle forze armate a gestire gli interventi di contenimento all'espansione della pandemia ha sicuramente rafforzato e anche la visione poi post penso al PNNR alle politiche lanciate a livello internazionale di questa resilienza questa parola che io personalmente odio rifiuto perché è la concezione stessa di accettare che ci sono delle condizioni che stanno portando alla distruzione ma con la resilienza ci permettono di sopravvivere e di renderle compatibili con questi modelli la parola resilienza non la troviamo soltanto nel PNNR la parola resilienza è diventata una delle più utilizzate nei documenti strategici della Nato nei documenti geostrategici dell'Unione Europea noi nel 2022 anche la guerra ha accelerato la produzione di due documenti che sono la nuova visione strategica della Nato e soprattutto la bussola strategica della difesa europea che è stata salutata come un passo avanti ma che poi di fatto se guardiamo i documenti ci accorgiamo che le due strutture si dichiarano complementari UE e Nato però di fatto l'Unione Europea diventa totalmente subalterna c'è una soltale simbiosi ideologica si riappropria delle stesse visioni degli stessi contenuti della Nato e la parola resilienza voi la troverete sistematicamente in ogni documento perché evidentemente c'è non è una mia visione quella di ritenere una parola che di fronte al cataclisma di fronte ai 60 secondi ai 90 secondi che ci restano dall'olocausto nucleare come ci dicono gli scienziati noi crediamo che si possa tranquillamente gestire che si possa tranquillamente sopravvivere che si possa tranquillamente organizzare questa fase se noi guardiamo i documenti ci accorgiamo subito che c'è una totale condivisione di parole che hanno dei significati che secondo me spiegano quello che è accaduto dopo che ci possono anche far capire quello che potrebbe accadere dopo intanto compare questa cosa cioè vi ricordate ci hanno bombardato nel 2001 il terrorismo islamico eccetera oggi il terrorismo quasi sta sparendo come parola nei documenti strategici della NATO però compare minacce ibride tanto con le minacce ibride che io non vi so tradurre perché proprio utilizzare minaccia ibrida serve proprio per spiegare che tutto può diventare una minaccia per cui le informazioni le fake news e sapete che campagna c'è in questo momento per tentare di controllare social net di controllare la gestione delle informazioni le fake news diventano un elemento importante delle minacce ibride per cui la NATO e l'Unione Europea devono prepararsi investire risorse sempre più risorse finanziarie proprio per prevedere la prevenzione e poter governare lo scontro con le minacce ibride e il contrasto con le minacce ibride significa anche contrastare i flussi migratori che diventano che scardinano la sicurezza dell'Occidente lo scardino l'integra della NATO e scardino scardino ovviamente vi rendete conto che diventa una maglia larga dove tutto può essere fatto passare e dove soprattutto quello che probabilmente si è riflettuto poco incide tantissimo sulle stesse libertà dei cittadini della NATO e dell'Unione Europea di questi emblemi della difesa dei valori della democrazia dello sviluppo della partecipazione e delle libertà per cui capite che le minacce ibride non sono soltanto quelle che vengono dall'esterno ma diventano anche un modo anche per regolare per controllare i territori controllare le contraddizioni e i conflitti questo avvicinamento questa condivisione simbiotica degli obiettivi non è ho detto è stata accelerata è complessa rispetto anche alle contraddizioni rispetto a una serie di spinte e centrifughe paesi dell'est la Turchia la vicenda di Cipro che torna a essere fondamentale i conflitti tra Grecia e Turchia i conflitti su una leadership europea dopo la Brexit prima si parlava di un asse franco tedesco che tentasse di ridurre la presenza statunitense e anche la presenza britannica oggi la Francia e la Germania sembrano dover andare fronti separati la Germania tra l'altro con anche problemi interni rispetto la visione e il proprio ruolo e il proprio collocamento ci sono stati due momenti importanti che hanno accelerato questo processo il 2016 e il 2018 le date anche qua sono importanti come ci dicevano prima siamo alla vigilia siamo dopo il 2014 cioè dopo il Donbass dopo la Crimea e siamo alla vigilia di quello che sarebbe accaduto lo scorso anno in cui vengono firmate due dichiarazioni congiunte appena per la prima volta della storia dalla Nato e dall'Unione Europea in cui vengono condivisi obiettivi strategici a medio e lungo termine le minacce ibride la cooperazione in campo marittimo che si struttura già da diversi anni la Sea Guardian che è l'operazione Nato nel Mediterraneo di controllo che opera a fianco dell'operazione Irene Irini che è un'operazione che non si capisce bene se è per controllare le fughe di gasolio di olio combustibile dalla Libia o per tentare di bloccare in parte i migranti per cui c'è un lavoro fianco a fianco la base di Sigonella base USA Nato e italiana funziona come base per le operazioni Irini che è un'operazione promossa dall'Unione Europea l'industria militare cioè si tenta di trovare insieme un rafforzamento del complesso militare provando a trovare delle soluzioni in campo militare in campo delle nuove caccia bombardieri di sesta generazione visto che gli F-35 di Quinta non vanno neanche più bene le nuove unità navali e soprattutto si pensa tantissimo al potenziamento e al rafforzamento delle capacità di trasferimento aria a aria del gasolio rifornimento aereo perché nelle guerre moderne non si può perdere tempo ad atterrare fare il carico di gasolio e ripartire meglio se questo viene fatto in aria e in questa proiezione avanzata che diventa uno degli obiettivi cardine della Nato e dell'Unione Europea della nuova visione strategica c'è questo bisogno di essere rapidissimi di potersi spostare in tempi ridottissimi in qualsiasi area del globo perché contemporaneamente come la Nato sposa la concezione dell'autoferria cioè quello di potersi trasferire fuori da quelli che erano i confini delineati nel 1949 dal patto atlantico e che pertanto è una Nato a 360 gradi che è una Nato di Iure dove ci sono paesi che aderiscono di diritto ma c'è poi una Nato de facto che vede un'enorme quantità di paesi nel continente africano in Medio Oriente nel sud-est asiatico nell'oceano pacifico che di fatto vedi l'ultimo caso del Giappone dove c'è stato proprio un vertice recentemente e ormai il Giappone è proprio in questo tentativo di attacco rispetto alla vicenda di Taiwan diventa un'asse fondamentale anche l'Unione Europea al suo interno sposa la concezione che l'Unione Europea non è cioè si propone anche come un soggetto articolato pronto a intervenire in tutti i conflitti esistenti in tutte le aree che diventano fondamentali per la sopravvivenza dell'Unione Europea recentemente gli ultimi documenti pongono guarda caso l'area indopacifica come un'area chiave strategica su cui investire dal punto di vista militare la cyber security la cyber security che voglio definire come la chiave di folta per poter giustificare un po' come le minacce libri di tutto la cyber security è immateriale però divora miliardi di investimenti perché la nuova frontiera delle guerre la nuova frontiera tecnologica è proprio l'uso informatico e questo ovviamente esaltando anche non solo lo scontro esterno ma anche lo scontro interno perché ovviamente la cyber security e qui l'Unione Europea qui sì che ha avuto probabilmente un ruolo anche più forte rispetto alla Nato è quello del controllo delle frontiere cioè l'utilizzo delle forze armate dei nuovi sistemi tecnologici avanzati per controllare le frontiere con la scusa dei migranti ma ovviamente entrare nel controllo casa per casa e porta a porta ovviamente il salto di qualità avviene il 20 giugno di questa dello scorso anno del 2022 quando viene firmata una relazione congiunta dalla sarebbe la terza volta che viene firmata una relazione congiunta tra gli Stati Uniti e la Nato guarda caso siamo dopo lo scoppio della guerra dopo che tra l'altro voi forse non ci ricordiamo ma il 24 febbraio la risposta all'attacco russo in Ucraina è stata una conferenza stampa a Bruxelles congiunta di Van der Leyen e di Scholberg a dimostrazione che la risposta all'attacco militare è una risposta che vede l'Unione Europea e la Nato operare e cooperare insieme non sto qui a dirvi poi nella relazione scritta troverete tutta una serie di elementi che provano tutti i contatti che sono stati fatti alla vigilia durante e dopo proprio anche nella scelta strategica di come intervenire in questo conflitto nella fornitura di armi nella fornitura e di cooperazione nello scegliere la lotta e il contenimento a rischio nucleare biologico chimico che è diventato l'asse portante con cui sono state giustificate molte delle operazioni che sono state fatte congiuntamente oggi l'Italia in Bulgaria per esempio parlavo della missione una delle esercitazioni che viene fatta costantemente ma viene fatta anche in Lettonia e quello proprio di l'intervento militare in condizioni di attacco nucleare chimico e batteriologico evidentemente ancora continua la follia che si possa sopravvivere a un attacco la resilienza anche qua e che anzi al contrario la guerra nucleare chimica e batteriologica diventa anche un'occasione per sperimentare un contrattacco e l'Italia ha un ruolo determinante nella formazione proprio rispetto a questo senso ovviamente dicevo di questi due documenti che sono stati varati formalmente nel 2022 la bussola strategica dell'Unione Europea e della e la nuova visione strategica della Nato che sono state costruite nella stessa sede a Bruxelles si incontravano i responsabili delle forze armate dell'Unione Europea che vorrei ricordare che sino a qualche mese fa a capo c'era il generale Claudio Graziano capo di Stato Maggiore della difesa italiana e che appena finito ha chiuso con la bussola strategica con le porte girevoli è entrato a presiedere fin cantieri S.P.A. questo lo dico perché poi ci rendiamo conto come anche la spinta enorme che viene fatta anche dalla Nato la Nato per anni era committente del complesso militare industriale cioè forniva finanziamenti per ricevere armi oggi la Nato parallelamente a quello che sta facendo l'Unione Europea si propone come un laboratorio sperimentale come un acceleratore di imprese proprio in vista delle nuove infrastrutture militari il progetto Diana Diana cacciatrice della cacciatrice su cui è stato già stanziato un miliardo questo lo dico perché ci interessa direttamente in Italia un miliardo proprio in vista del potenziamento delle nuove strutture militari cyber security ovviamente i droni non soltanto quelli aerei ma anche quelli terrestri anche quelli marittimi anche quelli sottomarini e uno dei poli di ricerca dei poli industriali verrà realizzato nella città di Torino accanto parallelamente e direi in sinergia col nuovo polo aereo spaziale di Torino che è un progetto in cui non c'è soltanto Leonardo non ci sono soltanto un centinaio di grandi piccole medie aziende italiane di start up ma in cui il ruolo delle università diventa fondamentale con due dependance una alla spezia e non è un caso e uno a capua a capua dove ovviamente Leonardo ha insieme la zona di Napoli uno dei luoghi centrali in cui proprio la ricerca sarà funzionale ai nuovi programmi della Nato dico la spezia perché proprio il centro Nato di la spezia è un centro che viene privilegiato sia dalla Nato che dall'Europa sulla ricerca dei nuovi sistemi di guerra sottomarino non vi dico ma lo troverete poi nella relazione vi invito a leggere perché parallelamente si è rafforzato enormemente o direi si è appiattito il ruolo anche del Parlamento europeo perché ho parlato della Commissione ho parlato del governo europea che di fatto ha sposato questo matrimonio con io vi invito a leggere i documenti prodotti soprattutto alla vigilia della guerra in Ucraina in cui anche quei documenti sono importanti per capire cosa era maturato tra le forze politiche e sociali presenti nel Parlamento votata stramaggioranza del Parlamento in cui ovviamente la Russia viene demonizzata come il pericolo alla sicurezza europea ma viene demonizzata anche la Cina concorrente su cui bisogna assolutamente prepararsi è un ruolo tossico quello della Cina anche nella gestione delle informazioni voi sapete quanto si stia puntando a Washington a criminalizzare per esempio il sistema cinese non soltanto perché entra entra nel controllo delle imprese entra nel controllo delle azioni delle società proprio per questa intossicazione che dovrebbe avere rispetto alle informazioni il Parlamento europeo a stramaggioranza fa appello alla Commissione e fa appello alla Nato di rafforzare il controllo delle informazioni tossiche che verrebbero da queste aree ma soprattutto sposa anche il progetto di rafforzamento della presenza militare di pronto intervento UE-Nato in aree ovviamente l'Ucraina ha 4-5 punti in cui viene spiegato ma come giustamente ci è stato detto poco fa il Kosovo e il controllo dei Balcani sud-occidentali diventano strategici e c'è un appello a rafforzare la presenza tra l'altro non ci dimentichiamo che proprio nei Balcani è stato sperimentato sono stati sperimentati i cosiddetti accordi Berlin Plus sono stati accordi firmati 5 anni fa dalla Nato e l'Unione Europea in cui la Nato metteva a disposizione dell'Unione Europea propri comandi proprie strutture per interventi che potevano essere tra virgolette autonomi dell'Unione Europea proprio in Bosnia è stato fatto questo proprio in Kosovo in Iraq serve per operare a Baghdad contemporaneamente c'è una missione dell'Unione Europea che ha sede nella stessa missione della Nato in cui ovviamente non c'è soltanto uno scambio di informazioni uno scambio di gestione del conflitto ma ovviamente c'è anche la programmazione degli interventi i settori chiave su cui si è deciso di coinvestire economicamente che riguardano lo dico perché riguardano anche questi in parte d'Italia il rifornimento aereo lo dicevo poco fa non è un caso che uno dei progetti finanziari più ambiziosi in questo momento della Nato vede l'ampliamento delle piste aeroportuali di Sigonella per trasformare oltre che già capitale mondiale dei droni e già hub strategico per le missioni dall'Atlantico rispetto l'Africa il Medio Oriente il Caucaso i Balcani oggi diventa fondamentale nel riformamento aereo di tutte le missioni Nato nell'asse nord-sud da est a ovest con l'esproprio di cento ettari ma ci sono i sistemi di difesa missilistica ci sono droni aereo lo dicevo e ci sono soprattutto si punta a lavorare insieme nell'addestramento dei piloti dei piloti dei velivoli che conduci direttamente dei piloti che a distanza da remoto conducono i droni e l'Italia in questo senso si co-promuove sia nella Nato che nell'Unione Europea in tre strutture che potrebbero diventare già lo sono scuole internazionali dei piloti ma che potrebbero diventare formalmente scuole dei piloti delle forze armate Nato UE la base di Decimo Mannu in Sardegna la base di Galatina in provincia di Lecce e la base di Amendola che è la sede tra l'altro in questo momento dei cacciabombardieri F-35 l'Unione Europea non solo beneficia dalle strutture il comando Nato di Lago Patria Napoli che è quello che tra l'altro ha il controllo in questo momento delle missioni Nato in Est Europa cioè i 300.000 militari che la Nato ha schierato in questo momento a Tenaglia tra la Biorussia l'Ucraina e la Russia il comando strategico è la base Nato non a Mons ma la base Nato in Italia al Lago Patria perché il cosiddetto fianco sud comprende anche quest'area ebbene l'Unione Europea finanzia direttamente progetti Nato in particolare c'è un progetto che è tra virgolette di cooperazione con paesi terzi nella formazione universitaria nell'addestramento eccetera si chiama BI Building Envolvement che è di rafforzamento proprio delle capacità l'Unione Europea stanzia due milioni l'anno per questi progetti che sono destinati leggo i paesi perché anche in una prospettiva potremmo capire l'effetto domino delle guerre in atto ovviamente c'è c'era già l'Ucraina prima c'era un po' Snerzegovina c'è la Georgia c'è la Giordania c'è la Moldavia c'è la Tunisia c'è la Mauritania questo per capire dove stanno andando i soldi in quelle che sono anche stati utilizzati per le cosiddette rivoluzioni gialli arancioni a puai a pallini esattamente servono principalmente sono rivolte alla cosiddetta società civile sono rivolte ai giornali sono rivolte ai giornalisti sono rivolte agli intellettuali sono rivolte alle università credo che questi paesi che tra l'altro in questo momento hanno enormi contraddizioni enormi conflitti la Tunisia lo sappiamo perché abbiamo due porte di casa dicevo già del rafforzamento delle relazioni vado proprio rapidamente c'è un appello ovviamente in questi documenti approvati viene fatta propria prima dal Parlamento e poi dall'esecutivo dell'Unione Europea la richiesta del 2% del prodotto interno lordo da destinare direttamente alle spese militari aggiungendo che il 20% della montare della spesa deve essere destinato alla ricerca per nuovi alla ricerca e allo sviluppo di nuovi sistemi di guerra tra l'altro una richiesta formale che è stata fatta dal Parlamento Europeo quanto vi resta? che è stata fatta formalmente sia all'esecutivo sia alla Nato e che Cipro faccia il suo formale ingresso nella Lanza Atlantica o diventi un partner questo ovviamente apre tutta una serie di contraddizioni di cui dicevo poco fa anche rispetto la Turchia 10 gennaio 2023 per cui siamo neanche un mese fa è stata firmata la terza dichiarazione di cooperazione congiunta o è nato dopo quella del 2016 2018 e questa ovviamente pone ulteriore enfasi ovviamente allo scontro epocale con la Russia ma accelera ulteriormente il conflitto il confronto con la Cina ripone il problema forte della resilienza delle infrastrutture strategiche dei paesi europei e per infrastrutture strategiche mi riferisco alle grandi infrastrutture per la telecomunicazione le grandi infrastrutture e qui ci arriverò per la mobilità reti portuali e qua ci riguarda tantissimo come italiani aeroportuali stradali ferroviari e autostradali e ovviamente la protezione cyber contro tutti gli attacchi e ovviamente mi riferisco anche ai terminali petroliferi ai terminali dei gasdotti dell'Unione Europea presenti dell'Unione Europea e per questo la PESCO che è questo progetto di cooperazione programma di cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea ha stanziato otto miliardi di euro da qui a tre anni proprio su questi nodi strategici ovviamente con una circa soltanto per dirvi soltanto dei programmi di ricerca dei nuovi sistemi 500 milioni di euro di questi 8 miliardi che vengono programmati dal nuovo fondo per la difesa europea che è rivolta in parte al complesso industriale in parte per quello che dicevo poco fa per di quello che diventa un nodo in cui si rafforza ulteriormente il legame tra Unione Europea e la Nato noi l'abbiamo visto in meno di un anno è triplicato il numero dei militari USA e Nato schierati in Europa riportandoli a valori anche superiori all'ultima fase della guerra fredda questo ha comportato ovviamente una capacità di mobilitazione enorme perché non è che si sono mossi come le formiche con le barche ci sono state operazioni che nell'arco di una settimana sono stati schierati centinaia di carri armati giunti direttamente dagli Stati Uniti o trasferiti dalla base di Camp Derby in Toscana non ce lo dimentichiamo e l'abbiamo dimenticato nel ruolo di proiezione avanzata del nostro paese in questo conflitto ebbene l'Unione Europea prevede e questo in accordo strategico con la Nato che degli 8 miliardi 1,7 vengano investiti per il potenziamento il rafforzamento e la difesa della mobilità militare nel continente europeo perché soprattutto c'è scritto questo nei documenti è prevedibile che sarà necessario ulteriormente velocizzare e rafforzare la nostra proiezione soprattutto a Est questo non potrà che comportare l'accelerazione di alcuni progetti devastanti dal punto di vista sociale economico ambientale e territoriale l'alta velocità la TAV in Piemonte ma significa anche la galleria del Brennero significano i passanti che diventano ulteriormente strategici tra la zona di Padova la zona di Vicenza e il Veneto in proiezione rispetto all'Europa significa rafforzare enormemente la rete portuale due degli assi strategici europei coinvolgono buona parte sia i porti come Livorno Genova e la Spezia rispetto l'ala del Tirreno ma penso all'Adriatico Dancona Trieste Ravenna e sappiamo quanti di questi porti hanno avuto un ruolo determinante nella proiezione avanzata dei sistemi di guerra in quest'anno e grazie alle amiche agli amici portuali di Trieste ma ora alla Spezia abbiamo capito quanto è diventato importante quanto la portualità quanto gli hub siano fondamentali nella proiezione militare una cosa che sono contento lo dico da Messinese è che perlomeno il ponte sullo stretto non è opera strategica per l'Unione Europea e della Nato perché la mobilità soprattutto richiede una mobilità di campo navale di campo aereo eccetera e di campo ferroviario per cui buon cuore ne abbia Salvini e gli amici di Salvini che vivono tra l'altro e che elettoralmente pescano tantissimo in quest'area il ponte non lo si potrà fare non solo perché non si possa fare tecnicamente ma perché la Nato e l'Unione Europea non lo ritengono opera intanto difendibile in caso di attacco abbiamo visto quanto diventa strategico colpire un'asse l'abbiamo visto sul ponte in Crimea e questo ce lo dicevano già le forze armate ma perché non rientra in quei progetti chiave su cui bisognerà rafforzare sono quelli che ho elencato la rete portuale italiana d'Ancona la Spezia eccetera che dovranno ulteriormente rafforzare il ruolo geostrategico e gli assi ferroviari tra est e ovest dell'Italia ma soprattutto anche rispetto alla Germania e rispetto alla Francia e nella parte orientale rispetto qualche mese fa il progetto della mobilità europea militare ha avuto un 2.0 cioè un ulteriore escalation con nuovi finanziamenti nuovi accordi in cui si pone altorialmente il problema della resilienza delle infrastrutture trasportistiche per cui nuovi investimenti per digitalizzazione amplificare la velocità difesa dagli attacchi cyber eccetera e nel documento che approva il 2.0 c'è espressamente scritto che tutto è stato deciso con la Nato in una logica di trasparenza reciprocità e inclusività per assicurare una più forte e credibile pilastro europeo nella Nato per cui con i soldi dell'Unione Europea con i soldi sottratti alla mobilità quella reale del diritto dei cittadini di potersi spostare in questo continente in modo sicuro libero eccetera si rafforzerà la rete autostradale ferroviaria e portualia in funzione militare secondo quello che è stato deciso allora di fronte a questo proprio concludo dicendo che se è vero che il quadro è drammatico però ecco credo che quello che riguarda proprio la visione strategica della quella Nato il fatto di ritenere fondamentali che per la resilienza energetica bisogna rafforzare questo quello che ha dimostrato questo conflitto in termini di escalecio di contaminazione dell'ambiente quello che dico rispetto il disastri ambientali e territoriali che avranno le nuove scelte geostrategiche militari rispetto alla mobilità che ripeto diventa l'asse fondamentale per lo meno in questo momento per gestire e cogestire il conflitto credo che questo ci possa consentire se avremo la capacità come attivisti no war parlando a chi lotta contro il cambiamento climatico cercando di dimostrare come niente come la guerra i processi militari contribuiscano e rafforzano questa accelerazione verso l'olocausto climatico ma soprattutto se avremo la capacità di rapportarci con tutti i movimenti territoriali e sono tantissimi che nel nostro paese si oppongono a progetti alle grandi opere mega infrastrutturali che divorano risorse finanziarie devastando i territori io credo che potremmo fare un salto di qualità potremmo far fare un salto di qualità agli ambientalisti e ai comitati che difendono i territori dall'attacco delle trasnazionali e penso che forse contribuiremmo veramente a tentare di impedire questo salto verso la morte verso la distruzione di cui personalmente sono sempre più convinto e ogni giorno che passa ogni giorno che si accelera questa relazione strettissima tra i gruppi del capitale trasnazionale che vedono i loro referenti nel Parlamento Europeo nell'Unione Europea nella Nato nei paesi membri della Nato nei paesi partner della Nato io credo che questa sia l'unica risposta che possiamo dare per darci veramente una speranza di poter noi siamo vecchi ma di poter garantire ai nostri figli ai nostri nipoti un altro mondo un mondo possibile un mondo sostenibile un mondo di libertà di giustizia un mondo di sopravvivenza grazie scusate un attimo allora intanto un ringraziamento naturalmente anche ad Antonio veramente una posso usare il termine bombardamento in questo caso perché è un bombardamento di informazioni di dati di notizie veramente di grandissimo interesse scusate qualche questione pratica vedo qualcuno che sta andando via due comunicazioni allora abbiamo rubato completamente il tempo al mini dibattito che era previsto tra le 12 e 30 e l'una adesso chi si è prenotato può andare a mangiare sapete al piano di sotto raccomando come sempre si fa in questi casi la puntualità vedo che non sempre è rispettata essere qui alle due e mezza attenzione una cosa importante c'è qui a fianco a me Filippo Bianchetti sta raccogliendo i nominativi di coloro che già prevedono di parlare domani di intervenire domani negli spazi destinati nello spazio destinato al dibattito questo naturalmente non vuol dire che chi non si prenota oggi non può parlare domani qui hanno libertà di parola tutti i presenti semplicemente questo ci consente di organizzare meglio lo spazio di dibattito di domani e di calcolare il tempo a disposizione per ciascuno grazie 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 grazie